Allora, buon pomeriggio a tutti e ho il gran piacere di inaugurare questo ulteriore ciclo dell'iniziativa sulle spalle dei giganti che da un certo numero di anni ho il piacere di promuovere qui all'Accademia delle Scienze di Bologna. Ci sono sia persone che si sono prenotate per partecipare in presenza, sia persone che partecipano di fuori e questo è già il trend attuale della modalità mista con la quale partecipiamo agli eventi. Qualche anno fa invece c'era, intanto le sedie erano più fitte e c'era un maggiore pienone perché insomma la gente con maggiore fiducia e spensieratezza andava di presenza. Io spero che torneremo in una situazione di questo genere prima o poi. Dunque questa iniziativa nasce anni fa perché c'erano alcuni studenti di fisica che facevano parte dell'Associazione Nazionale Studenti di Fisica. C'era diciamo un'unità di questa associazione che mi avevano contattata perché all'epoca ero presidente della Società Italiana di Fisica e insieme alla Società Italiana di Fisica si potesse fare una qualche iniziativa congiunta a Bologna e di qui è venuta l'idea di fare un ciclo di seminari durante il corso, quindi prima della chiusura estiva delle lezioni, dedicata agli studenti di fisica, l'Accademia delle Scienze incontra gli studenti di fisica. Questa iniziativa è piaciuta anche all'Accademia perché potete ben immaginare che di solito qui il pubblico ha un'età media ben superiore, quindi il fatto che arrivassero un po' di giovani, di ragazzi giovanissimi in Accademia era un qualcosa che è piaciuto molto. Ripeto, qualche anno fa c'era appunto un pubblico più misto in presenza perché eravamo un po' più coraggiosi, ma io spero che ricomincieremo. Allora, quest'anno i temi dell'iniziativa sono stati scelti senza particolari discussioni con gli studenti, cosa che in passato invece era avvenuta, ma sempre per motivi di Covid spero di aver, come si suol dire, imbroccato dei temi di interesse particolare per voi e quindi avete, potevate raccogliere, a parte che ve l'ho mandato in tutti i modi, comunque c'è anche il foglietto all'ingresso e oggi abbiamo il piacere di, però mi interrompo un attimo perché ho dimenticato un foglietto. Oggi abbiamo il piacere di parlare di un tema di estrema attualità, ciao Franco, che è intelligenza artificiale, promesse e risultati. Dell'intelligenza artificiale parlano tutti, credo senza sapere esattamente di cosa si tratti, quindi è bene oggi ascoltare i nostri illustri relatori che sono. Alla mia sinistra il professor Pierluigi Contucci, che è professore ordinario di fisica matematica nell'Università di Bologna. Ha un curriculum assolutamente internazionale perché è passato dalla Sissa di Trieste all'Università di Roma, all'Università di Princeton, all'Università della California, beato lui, poi a Tokyo, all'Institut Henri Poincaré, quello famoso della fisica relativistica e alla New York University. I suoi interessi sono fisica matematica, meccanica, statistica e applicazioni con enfasi su apprendimento automatico e data science. E quindi, a parte tutte le sue pubblicazioni, libri di cui è autore, articoli, volevo menzionare il premio Schleischmann, che nel 2000, che è ricevuto dalla Max Planck Society, il fatto che è accademico di questa accademia e il fatto che è il direttore dell'Unità di Bologna dell'Indam, che è l'Istituto Nazionale di Alta Matematica. E sarà il primo dei nostri relatori di oggi. Alla mia destra ho il piacere di introdurre il professor Daniele Bonacorsi, che è professore ordinario di fisica sperimentale, sempre nell'Università di Bologna. La sua ricerca verte sulla fisica delle particelle ad altissima energia al CERN di Ginevra, dove ha partecipato sia all'esperimento OPAL presso il collisore LEP del CERN, cioè elettrone positrone e poi partecipa attualmente all'esperimento CMS ALHC, il grande collide Protone-Protone. Partecipando a una parte della costruzione di una parte del rivelatore, CMS, ossia la parte per la rivelazione dei muoni con camere a deriva, è un esperto, un assoluto esperto di algoritmi avanzati per sistemi di trigger, per analisi e simulazione dei dati, ha un curriculum vastissimo per quanto riguarda lo sviluppo del calcolo su scala nazionale e internazionale, ha ricoperto ruoli di responsabilità importantissima nel management di CMS appunto per quanto riguarda il software e il calcolo. Ha collaborato con maggiori centri di calcolo internazionale in Europa, negli Stati Uniti, in Cina e qui avrete sentito parlare del sistema GRID di calcolo e del centro Tier 1 di cui il professor Bonacorsi è uno dei colpevoli responsabili. e attualmente contribuisce alla ricerca con nuovi e innovativi interessi di ricerca per machine learning applicata alla fisica delle alte energie. Quindi con questi due punti di vista direi un po' diversi, come avrete capito dal curriculum dei nostri relatori, io mi fermo qui e do loro la parola. Il primo che interverrà oggi per circa 45 minuti è il professor Contucci, poi la parola passerà al professor Bonacorsi. Non so se faremo le domande tutte insieme alla fine o dopo ogni relatore, vedremo. Per piacere non siate timidi, siamo venuti fin qua per ascoltare, discutere, quindi se avete delle domande, delle cose che non avete capito, va benissimo, non si fanno mai brutte figure a porre domande, vero? Verissimo. Allora grazie Luisa, grazie all'invito. Il tema trattato oggi è un tema che all'interno dell'Accademia, delle scienze, di altre accademie, trova uno spazio secondo noi privilegiato perché è un tema strutturalmente interdisciplinare. Quindi non sempre si riesce a discutere con l'approfondimento dovuto all'interno dei dipartimenti, ma invece una struttura che raccoglie tutte le discipline, non solo quelle scientifiche, ma anche umanistiche, è il luogo adatto per la discussione su alcuni temi, chiamiamoli più alti nel senso almeno che ha bisogno delle competenze di tutte quelle che abbiamo e non bastano. Quindi l'Accademia è un luogo veramente adatto per una chiacchierata del genere. Oggi, a differenza di Daniele, io non mostrerò slide, vado un po' all'antica, quindi vorrei tenere la vostra attenzione semplicemente parlando. Dirò cose molto semplici, sono molto contento che ci sia questo gran numero di studenti che siete principali, interessati, la vostra generazione, a quello che sta per avvenire. Il titolo che Luisa ha proposto intelligenza artificiale, promesse e risultati, è particolarmente anche quello centrato perché ci sono state tante promesse e ci sono tanti bellissimi risultati. Non sempre le promesse sono state mantenute, alcune sì, alcune no, alcune vanno discusse. Io quando presento considerazioni generali sull'intelligenza artificiale inizio sempre parlando, cercando di distinguere un po' i miti dai fatti, perché questo è stato uno dei temi che dagli anni sessanta, l'intelligenza artificiale, è stato mitologizzato in modo pesante, soprattutto dalla cinematografia. Sicuramente voi conoscete un numero di film che utilizzano qualche nozione di intelligenza artificiale che io non conosco. Vale anche il viceversa purtroppo, e questo segnala ormai che abbiamo un'età piuttosto in là. Ho notato che quando faccio appunto questi seminari divulgativi per le università, non tutti hanno sentito parlare di 2001 Odissea nello spazio, per esempio, un film che per la persona della nostra generazione è stato un capisaldo. In quel film viene proposto proprio con grande lungimiranza, e quello è uno dei capolavori della cinematografia di Kubrick, viene proposto questo computer che si chiama Hull, che ha delle capacità sorprendenti, colloquia amabilmente, è un computer che sta dentro una navicella spaziale, colloquia con gli astronauti, e addirittura quando gli astronauti disegnano delle figure umane, lui riconosce chi è il soggetto disegnato, e poi alla fine del film prende come dire, rivela che non solo è in grado di fare calcolisticamente cose come quelle che ho descritto, ma anche delle emozioni. Tant'è vero che vuole sopravvivere, ha la volontà di sopravvivere e addirittura prova paura quando l'astronauta tenta di staccare la spina da sto computer che gli si è messo in mezzo, in sostanza, è diventato pericoloso. Questo è il primo ingresso ad un certo livello nella cinematografia fantascientifica, chiamiamo. Di qualche anno dopo è il film Blade Runner, che forse conoscete o forse no, dove l'intelligenza, questo computer che vi ho descritto, era un computer dentro la scatola come i nostri, che però aveva un occhio, quindi la sua parte di interazione era sonora e luminosa. Poi c'è Blade Runner in cui diventa un robot, il computer, un robot praticamente indistinguibile dall'essere umano e quindi in quel film il mestiere di coloro che devono distinguere gli umani dai robot è un mestiere importante, perché erano diventati indistinguibili. E anche là il robot prova emozioni, eccetera. Questo è il sostrato da cui siamo stati un po' invasi dagli anni sessanta in poi. Perché negli anni sessanta? Perché l'intelligenza artificiale sostanzialmente nasce nel, quella che conosciamo, perlomeno che segue le direzioni che adesso sono cresciute, nasce intorno agli anni sessanta. Quindi anni cinquanta, anni sessanta. Il punto è che la cinematografia ha introdotto tutta una serie di elementi che sono fantascientifici nel miglior sé nel migliore dei casi. Invece quando andava male erano proprio cose che non avevano nessun senso. Quindi quando la cinematografia invece che di Kubrick o di capolavori come Blade Runner scende un po' più da altri criteri non scientifici ed emergono le paure del regista, le paure della società, quelle cose che attecchiscono nell'osservatore. Tutto questo non ha fatto bene all'immaginario pubblico sull'intelligenza artificiale. Perché quello che abbiamo sentito dire è basato soprattutto su questi esempi. Allora vorrei intanto sgombrare, parlare quali sono i miti, quali sono i fatti. L'intelligenza artificiale o quella presentata nei due film di cui vi ho appena accennato, è intelligenza artificiale generale, si chiama. Sarebbe, se esistesse, intelligenza artificiale generale, cioè indistinguibile da quella umana. Bene, intanto sgombriamo il campo. Questa intelligenza artificiale indistinguibile da quella umana non esiste e alcuni, tra gli specialisti, la maggior parte di loro, diciamo alcuni degli specialisti dubitano che esisterà mai. Questo è un tema aperto comunque, se ce la faremo mai a raggiungere un livello del genere. L'intelligenza artificiale intesa come indistinguibile da quella umana è per ora in campo futuristico, fantascientifico. Quello che esiste invece sono un insieme di tecniche, e guardate che userò la parola scienza con molta parsimonia, un insieme di tecniche, quindi apparati tecnologici, che riproducono alcune delle capacità dell'intelligenza umana, ma molto focalizzate, molto specifiche ai casi in cui vengono applicate, che non hanno nulla della flessibilità che ha il cervello. D'accordo? Quindi intelligenza artificiale generale non ce l'abbiamo. Abbiamo tutta una serie di applicazioni e questo sicuramente Daniele coprirà questa parte. Prima ancora di parlare, di venire a una descrizione, chiamiamola tecnologico-scientifica di AI, dell'intelligenza artificiale, vorrei inquadrarla un attimo intanto dal punto di vista della società. L'intelligenza artificiale come fatti e non come miti è una rivoluzione industriale. Una rivoluzione industriale con tutte le caratteristiche che hanno le rivoluzioni industriali. Noi ne conosciamo bene. Ste rivoluzioni industriali sono state numerate, no? C'è chi dice la prima, la seconda, qualcuno nomina la quarta, la quarta punto zero, eccetera. Una rivoluzione industriale in generale è un qualcosa che nasce da nuove scoperte tecnologiche che hanno un impatto così grande nel panorama scientifico-tecnologico che invadono la società, la cambiano, sperabilmente la migliorano. L'esempio classico è quello della rivoluzione industriale propriamente detta, di quando cioè l'uomo ha cominciato a produrre energia senza usare né i propri muscoli né quelli degli animali. Cioè è successo un qualcosa di molto bello che in epoche preistoriche invece era presente solo a livello aneddotico, che da un quintale di legna si riusciva a produrre lavoro. Ho dei fisici davanti, posso finalmente usare qualcosa, lavoro, forza per spostamento. C'erano delle forze che spostavano degli oggetti, il lavoro. Mentre prima il lavoro, forza per spostamento, era prodotto dalle persone e dagli animali. Poca energia veniva presa, non so, dalle paleoliche preistoriche, oppure dal focherello che ci scaldava, a cui le persone, che le persone certamente utilizzavano. Ma nel momento in cui è nato il motore che trasforma l'energia che sta dentro la legna o il carbone e produce lavoro, quella è l'inizio della rivoluzione industriale, perché tutto cambia. Tant'è vero che in epoche pre-rivoluzioni industriali l'energia procapite consumata dall'essere umano era intorno alle 2000 kilocalorie al giorno, che è quella che mangiamo in sostanza. L'energia procapite, cioè quella che serviva a far funzionare la società. Se adesso ci chiediamo quanto uno di noi della società occidentale consuma tutto incluso però, non solo quello che mangiamo, non solo la lampadina che illumina la nostra stanza, ma anche il lavoro necessario a costruire gli edifici, a far muovere le automobili, a far muovere i mezzi pubblici, a mandare gli aerei, eccetera. Allora scopriamo, e questo è un tema molto bello, tra l'altro questo di quant'è l'energia procapite consumata oggi dalla società occidentale è 100-200 volte più grande di quella che vi ho nominato, pre-rivoluzione industriale. Vuol dire che queste macchine, appunto i motori, adesso ci sono di tutti i generi, non solo il motore a combustione interna, ce ne sono tantissimi, queste macchine hanno cambiato il nostro modo di vivere. La rivoluzione industriale ha avuto conseguenze di carattere sociale, strutturali, anche se non sempre ci ne rendiamo conto, perché siamo nati noi post-rivoluzione industriale, ma l'energia procapite che consuma una persona è 100-200 volte più grande di quella che consumava una persona prima della rivoluzione industriale. Sul tema della rivoluzione industriale torno, perché uno dei compiti di questa mia chiacchierata sarà mettere in enfasi qual è il ruolo, e dovrebbe interessarvi, delle scienze dure in questa nuova rivoluzione industriale che ci arriva con l'intelligenza artificiale. Le scienze dure intese in sostanza come la fisica e tutte le cose che gli ruotano intorno. I fisici utilizzano tantissima matematica e anche tanta computer science, come sapete, no? Ok? Le scienze dure sono quelle che usano i metodi quantitativi in modo serio, in modo rigoroso e in modo massiccio. Anche alcune parti della biologia sono dure dal punto di vista matematico adesso, alcune parti della genetica utilizzano tantissimi metodi quantitativi, però le scienze dure sono le scienze fisico-matematiche e ingegneristiche che usano quindi in modo pesante gli strumenti quantitativi. Prima di andare alla discussione che vorrebbe essere il centro un po' della mia chiacchierata, vorrei riportare qualche dato dei report che vengono fatti ormai periodicamente sul tema di intelligenza artificiale, in particolare c'è il McKinsey Global Institute che fa questi report e l'Università di Stanford che nel 2021-2022 hanno collezionato alcune informazioni, alcuni dati molto importanti che è bene raccontare. Prima cosa il dato della McKinsey. Se lo sviluppo dei metodi e l'utilizzo dei metodi di intelligenza artificiale continuasse a crescere con la velocità che abbiamo adesso, ed è molto possibile che succeda questa cosa, perché è inarrestabile, poi vi dirò il perché, riteniamo che l'avvento dei metodi di intelligenza artificiale è inarrestabile, allora si avrebbe che per il 2050, mancano 30 anni, quindi per qualcuno è un intervallo molto lungo, mentre per voi no, voi sicuramente tra una trentina d'anni sarete qua a lavorare. Per il 2050 la metà dell'energia prodotta dall'uomo sarebbe necessaria per far funzionare le macchine, perché queste macchine di adesso consumano molto, ok? Sono dal punto di vista ecologico, soprattutto energetico, molto molto consumistiche, ok? Ed è evidente che questa non è sostenibile, no? Perché se metà dell'energia se la mangiano le macchine e l'altra metà che invece serve e serve tutta, non ce l'abbiamo più per altre cose. Quindi si pone un problema di ottimizzazione di questi strumenti. Un altro fatto importante è quello dell'impatto che avranno, molto più vicino, nei prossimi dieci anni. Quale sarà l'impatto, per esempio, dell'intelligenza artificiale del prodotto interno lordo dei paesi che la adotteranno? Anche queste sono stime fatte da specialisti, sono molto serie, sono molto ben fatte queste stime. Il PIL dei paesi occidentali che avranno utilizzato, avranno appunto saputo inglobare con sé le strumenti di intelligenza artificiale, dovrebbe crescere del 18% in una decade. Allora, una crescita del PIL del 18%, cosa vuol dire? Io non sono un economista, quindi mi sono chiesto è molto, è poco, no? Perché quello è un mestiere non nostro. E sono andato a vedere quanto è stato la crescita del PIL nel decennio dal 45 al 55. Allora, le fotografie dell'Italia nel 45 erano le persone in cannottiera magre che venivano dal dopoguerra. L'Italia era un paese più o meno rurale, piuttosto povero. Nel 55 invece cominciavano a vedersi tante automobili in giro, le persone vestite bene. Quello è stato probabilmente il periodo di crescita più veloce dell'Italia dal dopoguerra ad adesso. L'Italia in dieci anni è cresciuta del 9% il PIL. E quello che ci si prospetta adesso, si prospetta adesso per i paesi occidentali, è una crescita doppia con l'intelligenza artificiale. Ok? Quindi vuol dire che cosa? Che questa crescita è inarrestabile, perché c'è un qualcosa che produce ricchezza, poi c'è il problema grandissimo, sarà distribuita in modo giusto la ricchezza o sarà concentrata in pochi poli. Questo è un problema grandissimo, non ce ne occupiamo noi, ma la società è chiaro che se ne deve occupare. Questo è un dato fondamentale. Questo porterà a una crescita senza precedenti nella storia dell'umanità. Altri dati, questi dal report di Stanford. Qual è il tempo di raddoppio? C'è una crescita esponenziale di utilizzo del tempo di raddoppio. In particolare gli investimenti privati in intelligenza artificiale. Nel 2020 sono stati di 46 miliardi di dollari. Nel 2021 sono raddoppiati. Quindi localmente, in tutti i paesi che hanno adottato queste tecniche, gli investimenti raddoppiano, nell'ultimo anno sono raddoppiati in un anno. Il tempo di raddoppio è un anno. Quindi c'è una crescita molto molto forte. Altra questione, l'intelligenza artificiale sempre è nucleata da questi bei report. È un'affaire globale, mondiale. Prima produttrice, prima crescita di AI tra i paesi del mondo e della Cina, che è più grande di quella degli Stati Uniti. Nonostante tutto, la velocità della crescita e l'ammontare delle produzioni in AI, secondo gli Stati Uniti e poi altri paesi, Giappone, India, eccetera. L'Europa è un dinosauro molto lento. Perché? Perché l'Europa, per entrare in questo business dell'intelligenza artificiale, serve grande massa di finanziaria. I singoli paesi non ce l'hanno, l'Europa non si mette d'accordo. Quindi c'è un'inerzia, una viscosità nel movimento dell'europeo molto grande. L'intelligenza artificiale è una global affair. Per esempio, anche paesi tra cui ci sono frizioni relative, Cina-Stati Uniti, stanno vedendo una collaborazione all'interno dei progetti di intelligenza artificiale che cresce tantissimo. Raddoppia ogni anno di volume. Quindi nonostante le contrapposizioni politiche, le collaborazioni sono facilmente, nascono molto molto facilmente. Che cosa ha promesso l'intelligenza artificiale recentemente? Io ero presente quando Marc Mazar, un fisico, che è stato direttore della Scuola Normale di Parigi per dieci anni, un seminario che lui ha fatto alla Scuola Normale di Pisa. Nel 2018 ha raccontato che una promessa di quell'anno dell'intelligenza artificiale è stata questa. Tra due o tre anni, cioè nel 2022, EIAI sarà in grado di fare traduzione simultanea della lingua in condizioni facili, come per esempio quella di cui avete bisogno quando andate in albergo o al ristorante. Il ristorante non è che dovete fare una conversazione col cameriere di quelle complesse, dovete dirgli voglio questo, voglio quest'altro, potrebbe non parlare né italiano né inglese, questo cameriere anzi quasi certamente all'estero, EIAI adesso riesce a fare la traduzione simultanea con un ritardo di 4-5 secondi nell'ordinare cibo, nel fare il check-in, il check-out al ristorante. 4-5 secondi è un ritardo ancora grande, però è tollerabile in quelle condizioni molto particolari, non in una conversazione invece. 4-5 secondi di attesa con l'interlocutore sono troppo grandi, l'umano si disinteressa subito, non ha tempo, 4-5 secondi di ogni interazione, che invece è sotto il secondo l'attesa di risposta, mediamente. Promesse mantenute, promesse non mantenute, una attenzione molto grande nel 2018 era riguardo i bias, di cui soffre il metodo dell'intelligenza artificiale. Vi dirò che è molto basato sui dati, l'intelligenza artificiale moderna si fonda fortemente su dei grandissimi database e questa tossicità di informazione contenuta nel database è ancora una promessa, liberarsi a questa tossicità è ancora una promessa non mantenuta. Di cosa parliamo? Parliamo che se chiediamo a una macchina di imparare da degli esempi e questi esempi sono stati selezionati dagli umani in qualche modo, è ovvio che la selezione fatta dall'umano, quella selezione con bias fatta dall'umano, viene trasferita alla macchina. A un certo punto, infatti, quando nei media americani, questo è l'esempio classico che si fa, le scene di violenza filmate che vanno a finire in tv sono sempre tra neri, tra afroamericani e bianchi. Quindi nel momento in cui si è chiesto a una macchina, a un computer, di riconoscere le scene di violenza, il computer aveva un bias fortissimo nel credere che le scene di violenza erano quasi sempre tra africani e americani coinvolgevano sempre delle persone di colore, quando invece questo è noto che non sia vero. Le scene di violenza legate a persone di colore negli Stati Uniti sono proporzionali alla loro densità. La violenza è distribuita uniformemente nella popolazione e non qualcosa di appannaggio degli africani e americani. La promessa di migliorare l'efficienza energetica dell'intelligenza artificiale è stata mantenuta in minima parte. L'intelligenza artificiale ancora consuma tantissima energia e abbiamo bisogno quindi di ottimizzarla. E vorrei quindi fare una chiacchierata adesso, nel tempo che mi resta, appena appena a livello più tecnico. Abbiamo detto che l'intelligenza artificiale generale non esiste. Cos'è l'intelligenza artificiale che abbiamo adesso in mano, che la società ha? Allora è un insieme di tecniche, come vi ho accennato, che si dividono in due grandi categorie, che sono l'intelligenza artificiale che qualcuno chiama classica e l'intelligenza artificiale invece dell'apprendimento che utilizza il metodo di apprendimento automatico o machine learning. Non so se seguite le vicende di questa azienda, la Tesla di Elon Musk, la macchina che guida da sola. Allora là dentro c'è molta AI, c'è molta intelligenza artificiale. Alcune parti di questa intelligenza artificiale sono di modello classico, alcune di modello moderno. Vi faccio un esempio, siete fisici, quindi posso permettermi qualche esempio un po' più pertinente. Se la macchina deve decidere di frenare, state correndo in autostrada, se la macchina davanti a voi frena, la vostra Tesla, in realtà anche altre macchine molto più semplici, anche la Toyota monta questo strumento nelle berline normali che vende anche in Europa, la vostra macchina decide di frenare con un codice, con un programma che ragiona in questo modo. Intanto c'è il radar che misura la distanza. Se la distanza scende al di sotto di una soglia, che non è una soglia fissata, ma dipende dalla velocità con cui viaggiate, perché più andate veloci, più la distanza di sicurezza deve essere grande, perché il tempo di reazione della macchina è quello che è, e quindi se andate molto molto veloci avete bisogno di una distanza grande. Quindi se la macchina che avete davanti si avvicina troppo a voi perché ha frenato, perché c'è traffico, per quello che volete, allora la vostra macchina con un programma, fate attenzione a quello che dico adesso, scritto esplicitamente dal programmatore. Siete fisici, voi scrivete dei programmi al calcolatore, no? Con il linguaggio, cosa usate adesso? Python? Oppure no? C'è più i linguaggi più vicini alla macchina, e non quelli più lontani che sono magari più comodi. Però la cosa importante è che voi scrivete a mano un programma, perché conoscete un linguaggio di programmazione. Tutto quello che fate di questo tipo, come il programma che serve all'automobile per frenare, è parte di, chiamiamola, quella AI che lavora con strumenti classici. AI classica si chiama anche symbolic methods AI, metodi simbolici, perché utilizzano dei linguaggi di programmazione sempre più lontani dal linguaggio che usa un matematico, che usa un fisico, ma che servono comunque a fare un'operazione del tipo, if questa condizione è verificata, then fai questo. I vecchi comandi del Fortran, se volete, che forse non usate più, vero? No, ecco. I vecchi comandi del Fortran. La cosa da mettere in evidenza è che AI classica è programmata, esplicitamente scritta, con le dita nella tastiera, da un umano. Ok? Questa è AI classica, che fa cose anche, non so, classificazioni di oggetti. Una volta, negli anni Ottanta, c'era un linguaggio che si chiamava Prolog, oppure il Lisp, non so se viene ancora insegnato. Adesso ci sono le evoluzioni di questi linguaggi simbolici, dove il linguaggio macchina, quello che veramente corre dentro i chip del vostro computer, che in sostanza fa che cosa? Lo sapete, fa delle somme. Il computer fa solo delle somme. Con le somme costruisce le moltiplicazioni, le divisioni, operazioni con la virgola, eccetera. Ma un programma fa delle somme. Questo è quello il mestiere. Il linguaggio diventa più complesso, vi allontanate sempre di più dalle operazioni matematiche elementari, con 0 e 1, e potete anche dare, programmare, dicendo tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, e il computer vi dice Socrate è mortale. If, then, sono programmazioni classiche, scritte esplicitamente dal programmatore. Questa è AI classica, con questi linguaggi lontani dal linguaggio di base della macchina. E AI moderna, invece, è un oggetto totalmente diverso, ed è interessantissimo, ed è misterioso. È così misterioso che nessuno sa come funziona. Ok? Faccio un passo indietro alla rivoluzione industriale. Quando nei garage di Berlino, nei garage di Parigi, si costruivano le prime macchine a vapore, si era formata una specie di classe di meccanici molto bravi, che costruivano questi pentoloni, mettevano sotto legna, prima o carbone, e c'era il meccanico di Berlino che faceva una macchina a vapore che con un quintale di legna faceva 700 metri. Il meccanico di Parigi, con un quintale di legna, era in grado di fare in modo che la sua macchina andasse avanti, ma non come quello di Berlino. La macchina era costruita in un altro garage, funzionava più o meno, secondo le stesse idee, andava avanti 500 metri, queste prime macchine. Ma se chiedevate ai meccanici, ma come funziona questa macchina? Loro vi rispondevano, eh, come funziona? Scaldi l'acqua, il vapore si espande, questa muove dei pistoni, fa ruotare gli ingranaggi, la macchina va avanti, vi dicevano i meccanici. Ma quelli non erano perché, erano delle descrizioni tecniche del metodo di costruzione. Adesso quello che sanno fare gli esperti in intelligenza artificiale moderna è qualcosa di questo tipo. Chiedete, ma come hai fatto a riconoscere un cane da un gatto? Come hai fatto a far sì che la macchina riconosca un cane da un gatto? Beh, lui ti dice, ho fatto quest'operazione, quest'altra operazione, ci sono degli ingranaggi che invece che essere meccanici sono elettronici e l'ho fatta funzionare sempre meglio. Quelli sono avanzamenti tecnologici che ancora non hanno una rigorosa base scientifica e quindi c'è questa comunità di informatici che lavorano direttamente e tra loro ci sono tanti fisici, tanti matematici che stanno cercando di capire quali sono i principi fondanti di questa nuova strumento tecnologico. Nello stesso modo in cui c'erano i fisici, i matematici del 7-800 che si chiedevano come funzionavano quei motori. Quei motori funzionavano secondo un principio che è stato scoperto proprio in successione alla rivoluzione industriale che noi oggi chiamiamo secondo principio della termodinamica. La ragione per cui la macchina di Berlino andava più lontano con la stessa quantità d'energia è che il rendimento di quel motore era più buono. Perché? Perché la differenza di temperature tra la camera di combustione e la temperatura esterna dell'ambiente era più grande e quindi aveva un rendimento maggiore. Noi sappiamo che il secondo principio della termodinamica ci lega il rendimento della macchina alle due temperature. Per come fanno queste nuove macchine ad imparare? Non lo sappiamo. Questo parallelo con la termodinamica non è un parallelo casuale. È un parallelo molto profondo. La termodinamica, sapete, ha delle basi a sua voce che è una scienza assiomatica, ha due principi, tre principi, ma è una scienza assiomatica dal punto di vista nel senso che è basata su questi tre assiomi, però la fisica ha fatto grandi progressi nel dedurla dalla meccanica classica con leggi probabilistiche. C'è la meccanica statistica che serve a spiegare come il comportamento termodinamico emerge da una teoria a molte particelle, 10 alla 23 particelle, che si comportano in maniera opportuna negli scambi di calore, nella produzione di lavoro. Veniamo all'intelligenza artificiale moderna. Che cos'è? Come funziona? Funziona secondo un metodo, allora ribadisco il fatto che nessuno sa qual è il principio a cui obbedisce, ma funziona attraverso un metodo di inferenza statistica. Ok? Qual è una delle cose più note che riesce a fare? Riconoscere gli oggetti, distinguere gli oggetti, che è qualcosa di estremamente complesso, anche se per noi è facile. Supponete di avere un milione di fotografie, all'incirca metà di queste sono gatti e metà di queste sono cani. Quello che sanno fare gli specialisti di machine learning oggi è fare assorbire a una macchina, quindi immagazzinare alla macchina queste fotografie. Là c'è un programma che in base a questi dati che potete immaginare come dati sperimentali di fotografia e classificazione. Questa foto è di un gatto, questa foto è di un cane, quest'altra foto è di un cane, un altro cane, un gatto, un milione di fotografie, in base a questi dati è in grado di generalizzare, ok? Generalizzare in modo tale che quando gli proponete una nuova immagine di un gatto o di un cane che non era nel database, allora la macchina è in grado di dire è quello è un cane, anche se non l'aveva mai visto prima. Allora l'efficienza con cui si fa questa operazione è altissima. L'efficienza nel senso, l'efficienza nei risultati. Voi usate un cellulare molto probabilmente, avrete notato che sia nel vostro sistema operativo Android che in quello della Apple le foto, le facce delle persone che avete fotografate sono state raggruppate in gruppi e se io dico voglio vedere la foto di Veronica, mia figlia, tutte le foto di Veronica il mio cellulare me le ha messe in un folder. Questa azione, mettere tutte le foto di Veronica in un unico folder, non è stata fatta da un indiano sottopagato che lavora per poche rupie al giorno, è stata fatta in modo automatico. Come? Con inferenza statistica. Cos'è l'inferenza statistica? Voi avete fatto fisichetta, no? Giusto? Quindi un po' di statistica, fisica sperimentale 1, una volta si chiamava fisichetta, forse si chiama così ancora? Ok. Qualcosa non è cambiato. L'inferenza statistica è quel processo con cui riusciamo a determinare dei parametri di distribuzione di probabilità. Io ho una moneta, supponiamo che è truccata nel senso che è magnetizzata. Sono in una zona in cui c'è un campo magnetico, io non so se è magnetizzata e se sì quanto. Come faccio a scoprirlo? Un modo per farlo è la lancio 100 volte e vedo qual è la frequenza delle teste, qual è la frequenza delle croce. La lancio con rimbalzo in un pavimento, fenomeno caotico, se la moneta è magnetizzata, cioè truccata, il numero di teste di croce sarà più grande o molto più grande del viceversa. E io riesco a stimare la probabilità della testa in questo modo. Inferenza statistica, c'è un database, tanti lanci, riesco a calcolare P, la probabilità della testa. Adesso immaginare, questa è una distribuzione di probabilità, la più semplice che possiamo immaginare. Immaginate adesso di avere una distribuzione di probabilità che non ha un solo parametro, questo P, ne ha 280 miliardi, perché è questo che succede dentro i programmi di machine learning. C'è un numero di parametri enorme, quindi sentite l'ambiente in cui lavorano, è un ambiente meccanico-statistico in cui ci sono tante particelle virtuali che interagiscono tra loro con dei parametri, questo 280 miliardi di parametri, e quando date in pasto un database a questo sistema e gli chiedete in modo opportuno calcolati quali sono i parametri che connettono a un certo input, il gatto, la foto del gatto alla sua classificazione. Questo è un gatto. La macchina con criteri algoritmici, stochastic gradient descent, oppure contrastive divergence, dei termini che, se qualcuno di voi ha cominciato a dare un'occhiata al machine learning, deve avere già sentito, questa macchina calcola in base al database questo miliardata di parametri e questa, al termine del calcolo, il training è stato fatto, questa macchinetta, vi proponete un'altra foto di un animale che è un gatto o un cane e vi dice, anche senza mai averla vista prima, con grandissima capacità, questo è un gatto, questo è un cane. Capite bene che in una condizione del genere il ruolo delle scienze dure, quindi il ruolo della matematica, il ruolo della fisica, sono importantissimi. Perché? Perché se noi vogliamo migliorare queste macchine, così come sono state migliorate le automobili per la locomozione, che adesso hanno un'efficienza molto più alta delle macchine a vapore che andavano all'inizio della rivoluzione industriale, noi dobbiamo fare un lavoro che non è quello del meccanico che gira i bulloni o cambia lo spessore del pistone, eccetera. Dobbiamo lavorare a un altro livello, vogliamo indagare quali sono i principi secondo cui funzionano queste automobili e per farlo ci serve sicuramente la competenza di matematici, fisici e computer scientist, gli informatici, che lavorano però dal punto di vista teorico e non solo empirico. Non solo empirico. Com'è la situazione del D.I.I. in Italia? In Italia ci sono delle persone estremamente capaci che si occupano di questo tema. C'ho ancora cinque minuti, Luisa. Dieci? Cinque, dieci. Molto capaci. È un po' più difficile in un ambiente come quello italiano far passare l'idea che anche i matematici e i fisici non solo hanno il diritto e il dovere, ma hanno proprio degli strumenti per potersi occupare di intelligenza artificiale. A che cosa sia dovuto questa difficoltà? di far passare nell'ambiente questa consapevolezza. La difficoltà è dovuta un po' alla struttura del sistema accademico italiano che è stato, a torto, a ragione, suddiviso in compartimenti un tantino stagni che si chiamano settori scientifico-disciplinari, dove per fare appunto sforzi di interdisciplinarità bisogna lavorare un po' più che altrove. In un ambiente come quello americano, non so se sapete, la gente non è che si laurea in fisica, prende il major in fisica e l'accesso alle posizioni di lavoro non è basato sulla laurea in fisica o sulla laurea in matematica, è basato più che altro sulle competenze. Google, Facebook, le grandi società di informatica assumono persone in relazione a quello che serve loro. In Italia, questo è un po' più difficile, però nel 2019, quando ero nella piccola commissione che il ministero aveva messo in piedi per occuparsi un po' di progettualità e di intelligenza artificiale, il MIUR ci chiese di fare un censimento nel sistema accademico italiano. Quante persone si occupano di intelligenza artificiale? Chi sono all'interno dell'università? Beh, c'è migliaio di informatici, in realtà erano anche meno, ma adesso apparentemente tutti gli informatici fanno intelligenza artificiale, così all'improvviso. però facemmo un sondaggio, un censimento, e venne fuori i numeri, li ho riportati qua, che ci sono 340 matematici e 280 fisici che hanno tra i loro temi di ricerca il tema AI, tra i temi principali, o metodo principale per. Poi, come adesso ci dirà Daniele, la breve chiacchierata introduttiva che ho fatto io era più rivolta al che cosa possono le scienze dure fare per l'intelligenza artificiale, quindi in particolare la matematica e la fisica, per quelli che si occupano di fondamenti e di comprensione, di ottimizzazione di questi metodi, perché abbiamo bisogno che funzionino più velocemente e consumino meno energia. Ok? E c'è l'altro aspetto fondamentale, importantissimo, che cosa può fare invece l'intelligenza artificiale per le scienze dure. Quindi gli strumenti e gli AI, che cosa possono fare per la fisica? Io ero collega di corso di Paolo Branchini a Roma, sono laureato alla Sapienza, in fisica, e loro nel 91 proposero una delle prime applicazioni di deep learning, di deep learning quindi, a problemi di alte energie. Dovevano esaminare una serie di foto, di urti, di particelle che provenivano dal CERN, un sistema machine learning shallow, quindi un percettrone, non lo faceva bene, c'è un sistema a due strati, per quelli di voi che sono un po' familiari con questi temi. Branchini del Giudice ed altri due ricercatori, nel 91, parecchio prima di Lecun, Benjo, forse Hinton stava già pensando a queste cose, ma parecchio prima, fecero funzionare invece in modo molto molto efficiente una macchina a sette strati, un programmino di deep learning a sette strati, che risolveva bene tutti i tipi di particelle che doveva riconoscere. 1991. Io più o meno avrei detto tutto, potrei aggiungere delle cose, ma preferirei lasciare spazio alle domande. Ho usato meno del tre quarti d'ora, ma sono contento così. No, non mi è saluto. Grazie per questa illuminante introduzione. Io proporrei di passare, se voi siete d'accordo, ci sono una trentina di persone collegate anche lì fuori, di passare adesso alla seconda parte e poi alla fine di questa seconda parte di discutere un po' in sé, perché credo che poi appunto Daniele si riallaccia a quello che ha detto adesso, come la utilizziamo in diversi settori, se non sbaglio. Bene, quindi, prego. Benissimo, buon pomeriggio a tutti. beh, innanzitutto grazie alla professoressa Cifarelli per l'invito innanzitutto in questa accademia fantastica e per la gentile introduzione che ha fatto sia a me che a Pierluigi e grazie a Pierluigi per lanciare la palla in alto, molto in alto. Vediamo se lo andiamo a prendere. Dunque, quello che io vorrei fare con voi oggi è provare a fare un po' quello che ho fatto io, ovvero cercare di partire dalle curiosità che questo tema ha suscitato in me e dalle potenzialità che questo mondo dell'intelligenza artificiale poteva avere per la disciplina di cui io mi occupo, che è fisica delle alte energie, come avete sentito. E da qui ovviamente si è spalancato un mondo, perché non solo i risultati ottenibili erano abbastanza sconvolgenti, quanto potessero essere quantitativamente rilevanti, ma si apriva anche una serie di opportunità nuove, di rischi connessi a questo e soprattutto al fatto che l'intelligenza artificiale sostanzialmente, cosa che all'inizio pensavo fosse, non è una vera tecnologia, è una tecnologia che pervade tutte le altre in un certo senso. Quindi è qualcosa di molto più complicato, quindi anche il ruolo che può svolgere, il modo in cui si sviluppa nel delineare dei futuri per la nostra società è estremamente più di impatto rispetto ad altre tecnologie. Allora, volendo andare a vedere quanto l'intelligenza artificiale, mi accompagno con un po' di immagini, ma è ovviamente una chiacchierata molto leggera, quanto l'intelligenza artificiale possa essere pervasiva in vari settori, ci vorrebbero delle ore soltanto per elencare tutte le applicazioni. Ce ne sono alcune sicuramente che vi possono interessare più di altre e sono anche sicuro che ce ne siano alcune tra queste dove non avete una chiara idea di come possa entrare qualcosa legato all'intelligenza artificiale. Quindi questo già di per sé è sorprendente, lo sono ancora di più i numeri. Alcuni ve li ha citati Pierluigi prima, se ne vogliamo citare altri, almeno alcuni, ecco, l'idea che il mercato del software legato all'intelligenza artificiale globalmente da qui a un paio di anni sembra che raggiunga i 126 miliardi di dollari globalmente, circa un terzo delle imprese sul pianeta hanno implementato a qualche livello qualche soluzione di intelligenza artificiale. La crescita è enorme, tipo più 270% delle imprese che hanno usato queste tecnologie negli ultimi quattro anni e si stima di nuovo che da qui a qualche anno praticamente tutte le interazioni che avvengono con i clienti dal punto di vista delle aziende siano mediate almeno in parte da un'intelligenza artificiale. Capite che questo livello di pervasività e soprattutto questo potenziale di crescita esplosiva non può essere spiegato se uno pensa all'intelligenza artificiale come qualcosa di singolo unidirezionale. È chiaro che ha più direzioni e più dimensioni. È qualcosa di trasformativo nel senso più profondo della trasformazione. Trasforma anche il modo in cui noi facciamo le nostre cose normalmente nella vita quotidiana. Siamo incircondati di intelligenza artificiale, ce l'abbiamo in tasca nei nostri cellulari, ce l'abbiamo intorno a noi praticamente sempre e per me anche il modo in cui cambia il nostro tessuto sociale perché impatta le tecnologie varie in modi effettivamente molto forti, molto trasformativi. Quindi rischia di cambiare, di questo mi sono pian piano reso conto, rischia di cambiare come volevo che cambiasse un po' applicando la mia disciplina e ne cambia molte altre, non solo discipline scientifiche, quindi tessuto industriale, sociale, eccetera. Ora, in generale Pierluigi vi ha un po' spiegato come funziona, io provo a mettere due parole in più di gergo, così con un secondo passaggio sulle stesse cose, magari aiutiamo così anche a trattenere alcuni concetti che ci aiutano a familiarizzare, a gestire meglio informazioni su questi temi. Allora, all'inizio degli anni 80 più o meno il machine learning è diventato, spiegava Pierluigi, un modo di implementare l'intelligenza artificiale. Solo da una decina d'anni un apprendimento profondo, il cosiddetto deep learning, è un nuovo modo di applicare questo tipo di tecniche. L'idea generale di tutto ciò è sostanzialmente andare a prendere dati, dati che in pratica qui possono essere definiti come big data, dove big è definito nel modo migliore possibile come l'aggettivo ad attaccare ai dati quando questi dati non sono più gestibili in modo tradizionale, quindi non è un big come grandezza e basta, è stato definito con varie parole che iniziano storicamente con la lettera V, quindi c'è il volume dei dati, ma c'è anche la velocità, la varietà, la veracità, ci sono vari aspetti che li caratterizzano. Questi dati in pratica vengono utilizzati, dicevamo, per allenare un algoritmo, qualche algoritmo che sia in grado di estrarre delle informazioni da questi dati. Questo allenamento viene fatto praticamente fondandosi su caratteristiche che si decide di usare più di altre all'interno di questi dati, le cosiddette features in gergo. L'allenamento avviene con tecniche di ottimizzazione, che Luigi ha citato per esempio Stochastic Gradient Descent, l'idea che sia un problema di ottimizzazione in effetti è vero, devo minimizzare una funzione di costo che mi dà una misura di quali sono gli errori del mio modello sulle osservazioni. Una volta che ho completato questo allenamento io mi trovo in mano, avendo fatto anche del tuning fine di una serie di iperparametri che decidono come funziona questo modello, mi trovo in mano un vero e proprio modello, quindi dati con i quali io alleno un algoritmo per avere un modello di machine learning che poi applico nuovi dati, dati che non ho usato per fare l'allenamento, dati nuovi. Questo permette ovviamente di avere un modello in mano che ha delle potenzialità predittive per predire dei valori, dei numeri oppure classificare come foto di cani, foto di gatti tra foto, insomma, riuscire a classificare oggetti facendoli appartenere a diverse classi, a diverse categorie. Ora, quello quindi che viene fatto in una dimensione più legata a reti neurali come algoritmo, quindi pensate a una rete neurale che può essere una unione di neuroni e sinapsi in versione digitale, d'accordo? Quello che viene fatto nell'allenamento è appunto che questa rete neurale del tutto agnostica, un'architettura, una composizione che fate voi come fatta con i Lego, viene decisa in modo molto netto dal modo in cui l'allenate, cioè partite da qualcosa che è sostanzialmente agnostico. Voi iniziate ad esempio nel machine learning supervisionato, quindi col vostro aiuto a dargli, diceva Pierluigi, foto di cani con un'etichetta con scritto questo è un cane e foto di gatti con un'etichetta con scritto questo è un gatto. Ovviamente l'errore che fa nella predizione a seconda della verità che avevate prima può essere calcolato in base a come viene calcolato posso decidere quali sono state le scelte che mi hanno portato verso il successo mi hanno portato verso il fallimento. Pian piano la rete agnostica durante l'allenamento incomincia a sviluppare vedete delle piccole asimmetrie qui sono più o meno disegnate come se si gonfiassero i neuroni in realtà forse sarebbe quasi più corretto in questa grafica fare un po' più grosse le sinapsi collegamenti però vedete che diventa dopo l'allenamento qualcosa di abbastanza diverso raccoglie dentro di sé il suo apprendimento ha appreso qualcosa da quelle foto di cani e gatti con rispettive etichette una volta che decidete dopo la fase di allenamento il training di fare invece la fase di applicazione del modello e delle sue potenzialità predittive quindi l'inferenza usate questa rete attenzione adesso allenate gli date in pasto una foto di gatto ma senza dirgli che è un gatto stavolta una foto nuova e in base a caratteristiche che lui ritrova nella foto grazie a come è stato allenato capisce che quello con una certa accuratezza è un gatto ovviamente le foto di cani e gatti sono un esempio banale di una classificazione binaria ma potete classificare qualsiasi cosa vi possa interessare anche classificazioni naturalmente non binaria e non solo classificazioni di immagini per esempio quindi questo è l'idea insomma dell'allenamento e poi dell'inferenza del modello e del potere che può avere dicevamo prima che in effetti la storia dell'intelligenza artificiale è stata abbastanza lunga e complessa attraversato degli inverni anche abbastanza freddi in cui la disciplina non ha fatto dei progressi adesso siamo sostanzialmente in una nuova primavera e sembra che non ci siano segni di un nuovo inverno che sia in avvicinamento questa primavera è dovuta sostanzialmente a due forse tre fattori e in un'analogia il più semplice possibile immaginate che tutta l'intelligenza artificiale sia davvero una macchina come un'automobile che volete far funzionare in cui serve un motore una benzina e la chiave per metterla in moto ecco il motore in questo senso probabilmente è dato dal vero e proprio sviluppo tecnologico e anche dalla ricerca in un algoritmo migliore di machine learning quindi sviluppo tecnologico che ci ha portato a poter utilizzare per esempio delle general purpose graphical processing unit le cosiddette GPU che sono degli strumenti perfetti per algoritmi di machine deep learning perché in pratica fanno benissimo le somme e i prodotti e soprattutto grandi manipolazioni di matrici in grandi quantità con prestazioni elevatissime questo in pratica è l'algebra lineare che serve in larga misura a fare in questo tipo di modellistica questo è una parte è il motore d'accordo poi ovviamente parte del motore è anche la ricerca in machine learning che ha prodotto algoritmi certamente più sofisticati di quelli degli anni 70 o 80 in più però bisogna dargli la benzina a questo motore questi sono modelli data driven quindi servono i dati la nostra benzina qui l'analogo è i big data quindi con i big data che entrano in un motore fatto di risorse di calcolo adeguate e buoni algoritmi che vengono dalle ricerche in machine learning siamo a posto c'è una piccola difficoltà bisogna accedere a questa macchina sono risorse relativamente costose per fare cose su larga scala la possibilità di non dover comprare qualcosa tipo costruirmi da solo con i miei soldi un centro di calcolo ma poterlo per alcune esigenze affittare attraverso interfacce cloud e sono le chiavi d'accesso alla macchina molto spesso io ho la possibilità di fare qualcosa su scala limitata su risorse come il portatile che ho davanti altre volte chiaramente su larga scala non è possibile però non è uno stopper questo posso naturalmente non costruirmi con i miei soldi un data center come quelli di google posso affittare per ore giorni una risorsa di calcolo che sarebbe per me impossibile acquisire come si dice a un premise quindi averla diciamo sotto casa nel garage di casa d'accordo? allora di applicazioni in generale che ci possono essere in domini vari io ho scelto qui una scelta del tutto discutibile personale non me ne vogliano ovviamente coloro che amano e forse avrebbero preferito esempi di altre discipline ma ho scelto in pratica due ambiti per darvi un paio di esempi poi vorrei passare invece a trattare altri temi che si collegano anche molto bene con quello che ha detto prima per Luigi e ho scelto il caso di un'applicazione in medicina è un'applicazione alcune applicazioni in fisica delle alte energie la medicina perché quello che ho scelto è un esempio secondo me molto rappresentativo del potere di un algoritmo e di come un algoritmo è anche facile che riesca facile si fa per dire relativamente facile che batta un umano come prestazioni come competenze diciamo ha a che vedere con il riconoscimento di pattern di schemi e con problemi di computer vision e poi ha un esempio di machine learning non supervisionato quindi senza quelle etichette cane gatto che vi ho detto prima quindi particolarmente stimolante interessante leggermente diverso come classe di machine learning l'altro in fisica di alte energie che è un settore dove ho un po' più confidenza nel dettaglio del quale non entro non vi affaticherò su questo però l'ho scelto in particolar modo perché è una disciplina contrariamente a quella che vi ho scelto come prima cioè la medicina decisamente non visuale non abbiamo delle immagini in gran parte dei casi almeno su cui lavorare direttamente e c'è stata una forte evoluzione nel tipo di tecniche di machine learning usate all'interno della disciplina per quanto ne sia iniziata l'adozione non tanto più di 5-7 anni fa quindi è relativamente recente d'accordo? Allora in medicina l'esempio che vorrei farvi è un articolo che è uscito un po' di tempo fa mi sembra fosse il 2017-2018 su Nature su possibilità di fare diagnosi di cancro alla pelle quindi uno studio di tipo dermatologico mediante un machine learning non supervisionato quindi senza l'approccio d'aiuto di supervisione dell'umano quindi senza label non faccio allenamento su qualcosa che conosco ma utilizzo degli algoritmi come ad esempio quelli che creano dei gruppi dei clustering in base a delle distanze definite matematicamente in modo opportuno tra i vari esempi che ci sono nel dataset cerco insomma di raggruppare gli oggetti che sono all'interno di questo dataset in gruppi diversi attenzione in modo non supervisionato senza sapere assolutamente cosa c'è in un gruppo ma semplicemente raggruppando ciò che è più simile all'interno di quel gruppo di quanto non sia simile con qualsiasi cosa in qualsiasi altro gruppo all'esterno di esso quindi questo clustering produce dei grappoli di dati in questo caso immagine di nevi sulla pelle che per la macchina sono gruppi come tutti gli altri io raggruppo il gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3 ma la macchina non ha la minima idea di cosa ci sia nel gruppo 2 rispetto al gruppo 3 però se un dermatologo guarda quelle immagini nota per esempio che tutte le immagini del gruppo 1 sono dei nevi totalmente benigni tutte le immagini del gruppo 2 sono invece dei melanomi e così via l'idea che una macchina possa fare questo è del tutto ragionevole perché qui l'identificazione del problema è del tutto di natura morfologica devo guardare la forma il colore alcuni aspetti che una macchina è molto in grado di fare lo fa molto bene e soprattutto lo fa molto velocemente molto più velocemente dell'umano questo è un esempio che vi fa vedere come pur senza la mancanza di supervisione dell'umano la macchina è in grado di fare dei compiti con delle velocità e delle prestazioni super umane e praticamente potrebbe anche potenzialmente essere di grande importanza come ausilio a un medico a un vero dermatologo eccetera questo si applica naturalmente in radiografie si applica nei casi di covid si applica in mille ambiti dove la vostra immaginazione può portare un concetto che ho cercato semplicemente di introdurvi con questo esempio nella fisica delle alte energie invece il percorso che stiamo seguendo all'inizio da soli da scimmia umani diciamo poi iniziato a essere un percorso che è cambiato un po' con l'ausilio di qualche piccolo robot abbiamo iniziato in modo tradizionale cioè provando a portarci dietro un piccolo robot senza essere troppo ambiziosi e soprattutto molto convinti di essere più importanti del robot molto più saggi molto più abili quindi ce lo siamo trascinato dove volevamo senza ascoltare cosa potesse fare lui per noi quello che facevamo sostanzialmente è il machine learning tradizionale cioè se c'erano delle informazioni nei nostri dataset che potevano essere elaborate dalla conoscenza dei fisici ad esempio costruire una massa invariante per chi fa fisica e alte energie beh questo lo facevamo per noi la macchina non la può capire da sola questa cosa le costruiamo noi le grandezze di alto livello d'accordo e poi facciamo praticamente costruzione di queste caratteristiche nei nostri dati le features per il machine learning in un gergo e poi con quelle magari alleniamo dei modelli e facciamo qualcosa è l'approccio forse più infantile che si potesse fare non svelare assolutamente tutte le potenzialità non utilizzare al minimo tutte le potenzialità che potrebbe avere l'intelligenza artificiale nel nostro settore tuttavia iniziare ad aprirsi a quel settore quindi algoritmi di machine learning molto semplici dati con feature elaborate da noi in una fase che si chiama tipicamente feature engineering questo ha contribuito ad esempio anche alla scoperta del bosone di Higgs che hanno scoperto come sapete che ha valso il Nobel ai teorici che l'avevano teorizzato e che è stato scoperto nel 2012 dalle collaborazioni Atlas e CMS all'LHC a CERN di Genera qui ha giocato senza entrare in dettaglio un ruolo fondamentale anche il machine learning perché in pratica ha aumentato la sensitività nell'analisi nella ricerca di un ammontare che sostanzialmente equivale grossomodo all'aver raccolto il 50% di dati in più di quelli che avevamo al momento in altre parole per come stava andando l'acceleratore in quel periodo se ovviamente il bosone di Higgs fosse esistito come ora sappiamo che c'era ma non lo sapevamo all'epoca la scoperta dal punto di vista statistico si poteva stimare che sarebbe avvenuto intorno alla fine del 2015 inizio 2016 circa grazie anche a tecniche di machine learning è stata nel luglio del 2012 poi immaginate qual è anche solo il risparmio di energie di tempo e di risorse per guadagnare una scoperta di questa portata un paio d'anni a pari throughput scientifico quindi allo stesso uguale valore del risultato scientifico quindi un esempio importante e stiamo parlando di portarci dietro al robottino piccolo per mano ok quindi ok ok facciamoci alziamo il robottino tiriamolo un po' più su mettiamolo al nostro livello un po' più alto ok magari lasciamoci anche un attimo guidare lo mettiamo davanti a noi vediamo dove ci porta lo teniamo un po' al guinzaglio perché sono oggetti delicati però dobbiamo mantenere un certo rigore scientifico in questo in questo senso importante per noi che insomma le tecniche che usiamo siano scientificamente molto rigorose però apriamoci apriamoci a quello che fa il mondo apriamo a utilizzare delle tecniche delle architetture soprattutto di reti neurali che siano deep profonde quindi le più evolute che ci sono un po' di tutto e soprattutto non cerchiamo più noi necessariamente in modo forse egocentrico di cercare per forza di voler costruire noi le feature le feature lasciamo che le costruisca un'intelligenza artificiale prendendo le caratteristiche dei dati a più basso livello detto molto in soldoni tra noi diamo in pasto all'intelligenza artificiale tutto quello che viene fuori dal detetto grosso modo da rivelatore è un'approssimazione molto grossolana però avete il feeling cerchiamo di fare in modo come diceva Pierluigi prima diamogli pure anche dei milioni decine di milioni di feature di parametri non preoccupiamoci tanto di fargli delle cose fisicamente rilevanti noi vediamo l'intelligenza artificiale cosa può fare invece per noi e adattiamoci invece a utilizzare degli algoritmi che sono più evoluti più complessi quindi in pratica incominciare a mostrare un po' i muscoli l'approccio precedente con gli steroidi in qualche modo ora questo è rischioso perché niente è privo di prezzo la potenza qui ha un prezzo che si paga nell'opacità dei sistemi quello che vi ho detto prima per Luigi noi l'abbiamo visto molto direttamente in questo caso cioè la spiegabilità la giustificazione dei risultati ottenuti non è più semplice non è così banalmente tracciabile come quando usavamo degli algoritmi più semplici prima facendo più lavoro nella preparazione dei dati in ingresso meno lavoro nella preparazione dei dati algoritmi più complicati bisogna stare molto attenti all'esito quindi ci sono delle difficoltà maggiori però la potenzialità ovviamente l'abbiamo vista ed è enorme vi faccio una rapida carrellata di possibili architetture usate soprattutto cercando di puntare l'attenzione poi se avete curiosità ci torniamo su dove queste architetture sono usate nel mondo industriale nelle applicazioni e dove invece potrebbero essere utili nel nostro settore un esempio sono le reti convoluzionali quelle perfette per riconoscere cani e gatti ad esempio bravissime nella computer vision e nella pattern recognition in generale essendo poco sensibile alla posizione assoluta degli elementi che ci sono all'interno di un'immagine gatti di ogni tipo con del noise spostati non è un grosso problema si riesce con strati convoluzionali in pratica a superare questi problemi quindi riconoscono anche delle caratteristiche nelle immagini particolarmente complesse vengono usate in industria moltissimo nella computer vision ad esempio il settore dell'automotive che utilizza a man bassa e per noi abbiamo molto imaging tridimensionale nei rivelatori possiamo usare per classificare gli eventi stiamo pian piano iniziando a sostituire tutti i turnisti nella presa dati degli esperimenti con sistemi che sono un po' più di intelligenza artificiale non riteniamo che non siano importanti le persone a guardare i programmi guardare immagini e riuscire a capire delle cose naturalmente ma se questo task può essere svolto da qualcuno visto che è noioso e faticoso che è artificiale e lasciamo all'entità biologica dei task più di alto livello forse è meglio per tutti questa è una possibile applicazione usiamo delle reti neurali ricorrenti interessanti perché processano bene le sequenze lunghe di dati questi hanno dentro nell'architettura dei neuroni che in pratica parlano al passato hanno delle connessioni non soltanto feed forward ma che guardano anche all'indietro quindi in qualche modo possono trattare la lunghezza delle informazioni all'interno di una specie di pipeline quindi tutte le lunghezze variabili input che hanno lunghezza variabile possono essere processate come sequenze temporali tutte insieme accumulandole un po' tutte utilizzandoli in sequenza questo ovviamente come immaginate è usatissimo per processamento di audio video tutto quel settore dell'AI che si chiama natural language processing per esempio e noi lo usiamo appunto come classificatori per cercare di processare dei segnali che sono molto complessi input di lunghezza variabile e tra l'altro è interessantissimo che sia la descrizione di una frase l'applicazione diciamo dorata di questo tipo di architetture quando forse l'evoluzione in una particella che da un vertice magari ne produce delle altre decade ci sono altri vertici secondari e così via la capiamo nel suo insieme non soltanto in un punto esattamente come non capiamo il senso di una frase dall'ultima parola il senso di una frase dall'ultima parola se io dico solo parola non capite cosa sto dicendo dovete andare all'inizio della frase avere tutta la frase per capire il senso noi con gli eventi facciamo la stessa cosa non ci basta vedere che alla fine c'è un fotone vogliamo sapere tutta la storia dalla collisione protone protone fino all'ultimo fotone così capiamo l'evento l'idea che ci sia un'analogia concettuale tra queste due cose che guarda caso si mappa anche col tipo di architettura di rete neurali che usiamo per affrontarlo è decisamente molto molto stimolante ci sono altre cose modelli discriminativi e generativi come gli autoencoder e i variational autoencoder rispettivamente gli autoencoder sono interessanti perché comprimono l'input a una dimensionalità inferiore uno spazio latente poi lo decomprimono è come un gzip e g unzip ok un comprimero un file decomprimero però attenzione che dipende dal dato quindi la cosa cambia viene praticamente preso come vedete qui nell'esempio forse di scafaglio ve lo vedete anche un po' più in grande prendete un albero ad esempio con tutto il suo dettaglio lo codificate in uno spazio latente e lo decodificate in qualcosa che ha perso un po' di dettaglio vedete nell'immagine però è un albero avete in pratica trovato da quell'input il succo nello spazio latente c'è il succo dell'informazione la cosa che veramente vi interessa di più questo è interessantissimo per esempio nell'applicazione in fisica di alte energie perché lo si sta provando per cercare di nuova fisica nella ricerca di nuova fisica cioè utilizzare autoencoder in pratica per estrarre la fisica del modello standard ed identificare magari via trigger quali sono gli eventi che deviano un po' dal modello standard perché sono delle anomalie rispetto a quello che è la linea principale le caratteristiche principali degli eventi quindi anche questo un'applicazione estremamente interessante poi ci sono le cose più ambiziose forse ce ne sono anche di più ma questo mi fermo qui reti generative adversariali questi sono dei modelli generativi in machine learning adversariali o antagoniste le trovate anche scritto GAN in gergo queste sono alla base di deepfake di cui magari parliamo anche fra un secondo sono dei giochi a due reti neurali un discriminatore e un generatore il generatore è una prima rete che mappa del rumore e delle immagini e il discriminatore deve distinguere qual è l'immagine vera e qual è l'immagine falsa l'obiettivo di questo gioco con obiettivi diversi appunto una competizione è avere il miglior generatore possibile che è quello che riesce a confondere al meglio il suo avversario che è il discriminatore a quel punto io ho generato con una rete neurale qualcosa che non c'era prima e che il discriminatore non ha distinto da quello reale quindi è un finto esattamente come il vero e questo è fantastico perché dal niente si parte davvero dal rumore con due reti poco di più questo è estremamente interessante naturalmente è usatissimo nell'editing delle immagini nella generazione di dati eccetera nell'industria potete prendere una foto di un cavallo in un campo e applicargli la texture di una zebra non c'è mai stata una zebra in quel campo d'accordo però avete generato dalla distribuzione di probabilità zebra qualcosa mappandolo diciamo sul cavallo nel campo potete avere un paesaggio senza neve e trasformarlo in un paesaggio innevato ma la foto di quella capanna con la neve nessuno l'ha mai scattata non esiste è stata generata dal niente generare dal niente ovvio perché piacerebbe averlo in fisica ad alte energie noi generiamo un sacco di cose dal niente e questo è un ottimo metodo per farlo la cosa che è computazionalmente più interessante perché è difficile per noi è simulare la risposta del rivelatore al passaggio di particelle reali questo richiede dei programmi che sono molto intensi e richiedono molte risorse di calcolo e le reti generative antagoniste sono usate come una possibile alternativa che sembra offrire anche se non è ancora così precisa sembra offrire la possibilità di guadagnare anche un ordine di grandezza nei tempi di processamento necessario per avere gli stessi eventi simulati quindi molto interessante fin qui diciamo vi ho dato nella prima parte del tempo a mia disposizione sono circa 20 minuti 23 minuti che parlo vi ho dato un po' un'idea di quelli che penso che possano essere un po' di orientamenti generali sui temi riprendendo le cose già dette anche da Pierluigi e quali potrebbero essere un paio di applicazioni è chiaro che ce ne sono mille altri di grandi interessi una cosa che vorrei provare a fare con voi è riflettere sulla parte a parte i risultati la parte promesse e promesse disattese l'AI effettivamente è molto ambivalente in questo senso ogni volta che c'è un'opportunità c'è un rischio collegato spesso l'opportunità è più grande del rischio spesso no quindi l'ambivalenza però c'è abbastanza c'è sempre molto frequente quindi ogni volta che parliamo di qualcosa di intelligenza artificiale è facile collegarla a un dibattito esistente spesso anche molto acceso sulla direzione in cui andare di qualcosa la singolarità super intelligenza l'intelligenza artificiale generale già vi ha detto per Luigi anche di robot vi ha parlato un po' quindi ho messo fermo un po' su alcuni degli altri aspetti vedendo il più possibile di stimolare anche la curiosità sulle implicazioni sociali di questo tipo di tecnologie la prima è quella della privacy e della sorveglianza quello che Harari per esempio ha sollevato nel 2016 è che probabilmente noi stiamo sviluppando una società che non consciamente sta producendo un livello di algoritmi intelligenti che sanno di noi molto più di quanto sappiamo non consciamente certo loro potrebbero non avere gli strumenti per utilizzare questa conoscenza ma ahimè questa conoscenza ce l'hanno il problema della privacy sia chiaro c'è sempre stato però la sfera digitale l'ha chiaramente ampliato raccogliamo dati in forma digitale molti degli storage su cui sono salvati questi dati sono connessi da un internet come l'internet diciamo normale aperto a tutti ci sono un'infinità in più di sensori che producono dei dati digitali su aspetti analogici in realtà della nostra vita quindi trasformano le nostre vite analogiche in informazioni digitali ci sono poi un sacco di servizi liberi che noi usiamo che chiamiamo free perché non paghiamo però li paghiamo anche se non li paghiamo sul momento non li paghiamo in denaro li paghiamo con i nostri dati il cosiddetto data trail che noi ci lasciamo dietro quando utilizziamo ogni tipo di social media per esempio ma non solo questo è molto appetibile ed è soggetto a data training tra attori di questo processo quindi gente che li compra i vostri dati che avete ceduto per avere quelle applicazioni free qualunque cosa questo vi faccia pensare qualunque principale azienda digitale questa cosa vi faccia pensare sapete che avete un po' la coda di paglia lo sapete che gli state regalando i vostri dati vero? Non sono gratis bene in più ci sono sistemi robotici vero proprio tutto l'internet di le cose l'internet di tutte le cose non parlo di banali diciamo frigoriferi intelligenti ma anche assistenti digitali lo stesso telefono che fa tantissime cose raccoglie molte dati i dati che raccolgono i dispositivi di questo tipo sono molto più dettagliati sono molto diversificati vengono raccolti in tempo reale e sono in enormi quantità in pratica l'AI porta questa cosa alle stelle è un problema che ci sarebbe stato anche senza l'AI ma l'AI è un enorme acceleratore di problemi e opportunità in questo senso quindi è molto più facile raccogliere i dati in modo intelligente ed è molto più facile analizzare velocemente questi dati e trarre dell'informazione questo può avere dei problemi perché tutelarlo diventa leggermente più complicato anonimizzare a volte non basta controllare gli accessi non basta prendono strade delle idee tipo la privacy differenziale in cui ogni volta che per esempio si fa una query a un database l'auto di questa query viene criptato con del rumore calibrato ci sono delle tecniche ci si può andare in conto a questi problemi con delle tecniche e proteggere la privacy maggiore più di ogni altra cosa d'accordo però attenzione che queste molto spesse sono dei valori aggiunti in un mercato globale quindi un'azienda che non ha mai curato la vostra privacy probabilmente adesso vi fa per il loro per darvi il loro servizio potrebbe farvi pagare un po' di più perché adesso c'è la privacy e quindi diventa un servizio che offrono in realtà dovrebbe essere un diritto che viene dato dovrebbero ridarvi indietro d'accordo la sfida qui chiaramente può essere anche non solo tecnologica molto a che vedere con la regolamentazione con come questa poi sia in grado di applicarli in Europa col GDPR si è abbastanza avanti ci sono naturalmente altre regioni del pianeta negli Stati Uniti e la Cina dove la crescita cede fortissima come abbiamo visto anche in Cina soprattutto la regolamentazione è molto meno solida c'è anche un dibattito molto acceso che vi cito tra gli altri Moserog di alcuni anni fa nel chiedersi se sia poi valido assumere alla fine che soluzioni tecniche si prenderanno cura da sole dell'impatto che hanno sulla società non sia meglio invece capire se e come intervenire a quali livelli chiaramente un dibattito molto ampio capite spero almeno di avervi sollecitato un po' sulla riflessione quanto poi parliamo di algoritmi cani e gatti ma l'implicazione sulle nostre vite può essere davvero molto forte può essere molto forte anche perché il nostro comportamento può essere manipolato molto fortemente può essere manipolato perché con i dati che sono a disposizione di questi sistemi e la velocità con cui si può trarre informazione da questi dati è molto facile che si arrivi al punto che vengano sabotate le nostre scelte autonome e razionali pensate al marketing che ci investe pensate alla propaganda politica che raggiunge gruppi sensibili a magari essere permeati da alcune da alcune propagande e così via social media marketing economico marketing politico qui naturalmente è una sfera molto molto ampia vi faccio alcuni esempi cercando di rendere questa seconda parte più leggera possibile un sistema di raccomandazione come ingannare algoritmi i deepfake e come usare l'AI per correggere i problemi dell'AI il primo esempio è un tweet che mi ha fatto devo dire molto ridere alcuni anni fa questo Justin ha fatto notare una cosa che avevo notato anch'io ma penso anche voi io comprai su Amazon una bicicletta a un certo punto e poi comprai dei giocattoli con le mie figlie e dopo un po' Amazon mi suggerì di comprare un portabambine per la bicicletta grazie in effetti non l'avevo avevo appena comprato la bicicletta ed era sensato che me lo proponesse avevo delle bambine non erano regali per figli di amici c'entrava effettivamente questa cosa era a tema io potrei essere anche un collezionista di penne stilografiche comprarne una al giorno volendo però Justin qui ricorda che forse se ad Amazon gentilmente che se forse lui compra un umidificatore non è che sta iniziando a collezionarli quindi non è necessario che mi suggerisca Amazon di comprare altri umidificatori non è l'inizio di un'ossessione quindi l'algoritmo si è intelligente dobbiamo temerlo però attenzione ok l'abbiamo creato noi questi oggetti cioè le direzioni sono balistiche nella misura in cui noi non facciamo niente per evitare il danno d'accordo sono intelligenti ma attenzione a volte non sono così intelligenti non sopravvalutiamo d'altra parte è anche facile ingannarli quindi visto che l'inganno potrebbe ripercuotersi sulla nostra sicurezza bisogna prestare attenzione esempio molto banale io in strada viaggio e vedo un segnale o comunque qualche segnaletica di questo tipo non è chiaro lo riconosco che non è un segnale ma la mia Tesla citata da Pierluigi non ce l'ho naturalmente ma magari una Tesla che vede questa cosa non lo sa che quello non è un segnale non è che ha fatto scuola guida in modo esatto come me come voi d'accordo però vede qualcosa del genere o qualcosa del genere sembra compatibile con un non svoltare a sinistra quanto meno però a destra forse posso andare in realtà magari era uno stop dove erano stati attaccati degli adesivi quindi l'unica cosa che rimaneva davvero visibile al sistema di computer vision di quella macchina forse era qualcosa che è compatibile con non girare a sinistra ma in realtà dovevo proprio fermarmi se giro a destra magari sono vittima di un incidente d'accordo questo è un esempio molto semplice però vi fa capire come queste tecnologie se diventano commodity passano nel sociale cioè l'adozione di queste in modo sicuro per chi li utilizza non è banale l'algoritmo può essere semplicemente ingannato se con una macchina è smart legare all'intelligenza è facile è molto facile trovare un algoritmo che è più smart della macchina smart ok questo è vero anche per i cosiddetti attacchi adversariali che sono fatti con tecnologie simili alle reti che abbiamo mostrato prima dove è possibile anche in computer vision cercare e riuscirci di ingannare un sistema di riconoscimento delle immagini quindi sbloccare in qualche modo il telefono di un altro o fare in modo che non riesca a sbloccarlo più non è impossibile ok è stato visto per esempio in un'immagine di un panda riconosciuta al 57-58% di confidenza che aggiungendovi del rumore opportunamente calibrato si poteva far avere allo stesso algoritmo una prestazione assai diversa cioè riconoscerlo come un tipo di scimmia al 99% di confidenza quindi attenzione basta sapere come funziona ovviamente questo ci aiuta a prevedere che accada ma non ci aiuta a prevedere che qualcuno inganni gli algoritmi che usiamo nei nostri sistemi intelligenti quindi bisogna ovviamente prestare attenzione i deepfake sono la cosa a cui siamo probabilmente più esposti tra queste due persone per esempio una è una persona vera l'altra no sapreste dire al volo qual è la persona vera? una è effettivamente una foto di una persona che esiste a cui è stata scattata una foto e questa nella forma digitale ma ci sono c'è l'altra persona invece che non esiste quella foto non è mai stata scattata e non siete sicuri così al volo soprattutto a distanza da vicino forse ce la fate ma a distanza non siete sicuri di quale sia davvero beh questa è finna d'accordo forse posso guardarla da vicino d'accordo supponiamo che ci sia il discorso di una persona forse un po' più rilevante delle due di prima ok che vi sta dicendo qualcosa il cui impatto potrebbe ovviamente essere anche per milioni e milioni di persone adesso questo non è aggiornato come come presidente però capite che ne prendo le foto che trovo per esprimere lo stesso concetto quale di queste quattro è il vero Barack Obama? quale? tra queste per esempio avete scelto? ok un'immagine è un'immagine una serie di immagini è un video ci metto anche l'audio avete il discorso di un presidente degli Stati Uniti che dice cose che non ha mai detto vi devo spiegare quanto può essere rischioso non saperlo riconoscere da un filmato vero giusto? soprattutto in tempi caldi ahimè come quelli in cui siamo adesso ora qui non so l'audio quanto si possa sentire però ci provo solo un piccolo esempio non serve che facciamo niente per cambiare grazie va benissimo questo è un video fatto in pochi minuti prima del seminario fatto ieri sera si può fare online con applicazioni web che lo fanno insomma uno si sviluppa le reti che servono per farlo ci si mette un po' più di una sera ma si può fare e non serve avere un grande centro di calcolo dove una persona che è chiaramente esistente questa persona probabilmente esiste ma è stata con un testo scritto a mano manipolata in pratica in modo tale sotto ovviamente reti neurali profonde per farle dire qualcosa che io ho scritto come testo e lei sta dicendo anche se non lo sentite molto bene benvenuti a un seminario sull'intelligenza artificiale non mi chiamo buonaccorsi però godetevi il seminario ok? possiamo fare dire a chiunque e qualunque cosa in poco tempo e non è una questione di avere grandi risorse computazionali come potrebbe essere fare un film di guerre stellari con attori già in media ceduti però farli ancora recitare in quei film si tratta di qualcosa che ragazze e ragazzi con delle skill tecniche di livello medio medio alto non necessariamente altissime possono fare su risorse di calcolo come un portatile con qualche ora di lavoro e qualche conoscenza capisce l'impatto sociale di questa cosa è molto ampio è molto ampio c'è modo però di utilizzare l'AI per combattere diciamo l'AI non etica esiste questo sito interessante ci sono varie iniziative del genere naturalmente che si chiama Reality Defender che in pratica permette di rivelare dei media che sono sintetici con l'AI quindi fate l'upload di una foto di un video e vi dicono se è vero o no vi dicono anche come è stato fatto e vi danno altre informazioni quindi l'AI è il problema o è la soluzione o è entrambi il problema qui probabilmente è non aver la conoscenza di come funzionano questi meccanismi perché in realtà la traiettoria appunto del nostro futuro non è necessariamente balistica possiamo controllarla un po' quello che diceva Pierluigi prima sulla spiegabilità che è un tema molto importante anche vedere con come questi sistemi più diventano complessi gli algoritmi più diventano in effetti opachi e questo è un vero problema perché forse stiamo creando davvero dei sistemi decisionali che sono capaci di prestazioni super umane però non sono non sono capaci di spiegarci come funzionano cioè di spiegarci le loro decisioni attenzione qui bisogna stare molto attenti tra capire come funziona qualcosa e spiegarlo davvero l'interpretabilità ha a che vedere con la meccanica di tutto il processo cioè spiegare effettivamente quali sono le cose che sono accadute e che a quali risultati successivi hanno portato la spiegabilità invece ha a che vedere con la vera e propria giustificazione del risultato questo è molto importante perché più gli algoritmi di AI utilizzati sono complessi più tendano ad essere non delle scatole bianche trasparenti in cui meccanismi comprendo completamente ma delle scatole un po' oscure delle black box in cui metto dentro dei dati vengono fuori delle predizioni certo gli algoritmi io posso un po' fidarmi posso mettere dentro dei dati che sono i più liberi da bias possibili come ha detto anche per Luigi prima però attenzione che se quella scatola è nera io non spiegherò davvero il risultato di una classificazione e questo è ovviamente molto grave molto pericoloso d'accordo? altro esempio molto banale sulla spiegabilità che spero trasmetta il concetto se io vi faccio vedere questa foto e vi chiedo se è un cane ASCII o un lupo beh vedete che è un ASCII non so se avete un cane ASCII ma si capisce che non è un lupo selvaggio questo già dallo sguardo forse da alcune caratteristiche non so neanche bene chiedervi cosa avete guardato per decidere che questo sia un lupo però sono sicuro che nessuno dice che questo è un ASCII invece quindi questo è un compito che facciamo tutti molto velocemente una macchina come lo fa? un algoritmo intelligente questo compito come lo fa? hanno provato un articolo anche abbastanza famoso e hanno visto che in alcuni casi il lupo predetto come lupo era effettivamente un lupo un ASCII predetto come ASCII era veramente un ASCII e così via ma a volte un vero ASCII è stato predetto lupo ok spieghiamo perché non è banale andare a vedere tutte le feature qui le feature sono i vari pixel le varie luminosità dei vari pixel in scale RBG sono effettivamente milioni di informazioni cosa vado a vedere come faccio a capirlo? alla destra di ogni figura qui vedete una stessa figura dove sono evidenziate le feature che sono state più rilevanti nel decidere qual è l'esito della classificazione ASCII verso lupo ok quindi la regione dell'immagine che è stata guardata dalla macchina di fatto guardate qui qui ci ha preso ma non ha guardato l'animale qui ci ha preso ma non ha guardato almeno una zampa forse un po' di schiena l'animale qui non l'ha guardata affatto ha guardato due zampe qui ha sbagliato non l'ha proprio guardato l'animale e così via lo guarda poco quest'animale guarda lo sfondo perché nello sfondo dietro i lupi c'è la neve e dietro gli ASCII c'è un uomo o non c'è la neve dagli per una volta un ASCII con dietro la neve e lui ti dice ASCII è un vero ASCII scusate lui ti dice lupi si sbaglia questo non è un rivelatore un classificatore di cani ASCII contro lupi è un rivelatore di neve ok cioè le immagini non erano corrette quindi l'algoritmo quello che ha imparato con le etichette che gli abbiamo dato che è il modo migliore di dire ASCII quando vuoi che io dica ASCII e il modo migliore di dirti lupo quando tu mi insegni a dirti lupo è che io guardi cosa c'è dietro perché tanto se c'è la neve è un lupo perché mi hai dato delle immagini di lupi in montagna e di ASCII in città quindi il tuo dataset è biased e ovviamente io imparo quello che mi dai io imparo il rumore del tuo dataset il contorno non guardo l'animale non ho imparato nulla è un modello da buttare nel cestino questo ok non è sbagliato l'algoritmo ma ovviamente c'è un bias nei dati se non lo curo il modello è del tutto inutilizzabile e questo ci porta alla discussione dei bias che ha mostrato Pierluigi e qui vado verso la fine ancora alcuni minuti ci basiamo molto sui dati d'altra parte come potremmo non farlo sono modelli data driven quindi naturalmente i dati sono la benzina della nostra macchina senza non va in moto c'è poco da fare il problema è che abbiamo la tendenza a riprodurli e questi bias possono essere molto pesanti ci sono alcuni esempi qui che vi faccio faccio quattro esempi di bias sul colore della pelle molto velocemente e un esempio sul bias di genere che ahimè c'è anche nell'intelligenza artificiale qui la soluzione la ricerca di soluzioni tecniche è molto importante ma molto difficile perché dal punto di vista delle scienze dure per esempio avere una definizione matematica di fairness non è banalissimo quindi qual è la metrica giusta qui è un problema chiaramente complicato primo esempio è stato citato anche dal google photo prima da più luigi con le foto della sua bambina questo è un caso molto famoso molto triste in realtà dove questa persona su twitter ha notificato gentilmente a google che in google photo mentre le altre sue foto erano classificate correttamente le foto dove c'era lui con la sua ragazza aveva sotto la scritta gorilla allora non credo di dovervi spiegare l'importanza di evitare da parte di una compagnia digitale a livello pianeta planetario di fare un errore così grossolano questo era il 2015 credo che ancora 3-4 anni dopo google google photo non classifichi i gorilla altre scimmie sì ma non è riuscito a raggiungere un'accuratezza tale da potersi permettere di rimettere in produzione la classificazione specifica dei gorilla stiamo parlando di accuratezze non mi basta 75% deve essere molto vicino al 100% perché queste cose non devono accadere un altro esempio è il caso face up dove c'era un filtro che si chiamava hotness che lo chiamavano come beautification io passo la mia foto non mi piaccio uso questo filtro mi rendo più bello e poi faccio condivisione di quella foto in un profilo social eccetera metteteci una persona di colore una fissazione con Barack Obama scusate metteteci una persona di colore e la beautification fa un effetto che non è del tutto accettabile nemmeno questo la spiegazione è interessante il CEO della compagnia nel 2007 ha detto che è un unfortunate side effects of the underlying neural network caused by the training set bias eh sì ma lo dovete fissare unfortunate mica tanto cioè non si può lasciare in produzione una cosa del genere d'accordo quello che hanno fatto è cambiare il nome del filtro non è più beautification o hotness è un altro nome così non si è un filtro che fa qualcosa però non intendo dire che il risultato sia più bello di quello di prima se vi schiarisco la pelle sia chiaro non hanno davvero risolto il problema dite cosa intendo una cosa un po' più impegnativa di questi aspetti estetici è l'esempio nel 2016 del software Compass che serviva per valutare le probabilità di recidive nei crimini e questo è risultato avere in pratica un numero di falsi positivi più alti per le persone di colore ovviamente legato al fatto che come nelle immagini citate agli esempi di Perluigi prima sui telegiornali c'erano magari dei questionari fatti in modo biased quindi naturalmente erano raccolti dei crimini con un bias molto preciso e quindi la recidività svantaggiava persone di colore questo è chiaramente un tema molto sensibile un altro tema di nuovo su Twitter sul colore della pelle è legato alla cosiddetta funzione l'algoritmo usato per fare il cropping delle figure sapete quando su Twitter fate un post c'è un'immagine se l'immagine è più o meno simmetrica come larghezza e altezza la vedete tutta o ridimensionata in una sua parte se invece è molto larga e bassa o è molto alta e stretta ne viene mostrato un estremo e il cropping è un algoritmo cosa faccio vedere? beh se io all'estremo metto niente nel mezzo e una persona di pelle bianca e di pelle nera ai due estremi viene mostrata quella di pelle bianca perché? ok questo è stato detto esplicitamente di nuovo il sistema era stato testato ma non ne avevano trovato evidenza di problemi ancora peggio cioè ci avevano guardato ma non avevano bene capito dove fosse il bias e fino alla fine del 2020 hanno detto che c'era molta analisi che dovevano fare questo è proprio quando Twitter lo dice pubblicamente ok l'altro esempio che vi volevo citare è quello del gender bias sono a 45 minuti e con questo chiudo il gender bias è un'altra cosa che purtroppo popola molto i dataset su cui si fanno allenamenti di algoritmi che poi vengono messi in produzione nella vita reale e questo è un caso in cui si voleva predire chi era qual era il sesso il genere della persona che era ritratta nella foto in atti di cucinare qualcosa con anche identificare cosa veniva cucinato con quale strumento e così via qualcosa del genere quindi un dataset di foto di persone ai fornelli vedete che in larga misura quando c'è una donna anche se è un po' piccolo quando c'è una donna che cucina vedete woman e quando c'è un uomo che cucina qui avete un esempio dove è scritto man e un altro esempio dove è scritto woman quando la foto mi sembra che faccia capire molto chiaramente che quella non è una donna il problema è che è stato visto il dataset qual era il dataset era sbilanciato c'era soltanto un terzo di foto con uomini in cucina quindi che cosa deve capire il modello di machine learning se noi stessi abbiamo il bias nei dati con cui gli facciamo l'apprendimento capisce quello che gli insegnanti gli insegnano cioè che tipicamente ci sono meno uomini in cucina quindi se vede una maggiore accuratezza possibile ottenibile nel dire che c'è un uomo in quella foto beh dirà donna perché in larga misura questo è quello che i dati gli suggeriscono di fare e purtroppo questo viene anche amplificato se c'era un 33% di uomini nel campione usato per l'allenamento in inferenza quando lo applico diventava ancora pesce diventava ancora più discriminatorio veniva amplificato il bias in inferenza rispetto a quanto era in training ok qui più per tempo mi fermo non voglio andare dentro tutti gli altri esempi che ho mi limito forse a una piccola considerazione qui per chiudere anche con la questione forse della matematica della fisica delle scienze dure è chiaro che il contributo che possiamo dare come discipline scientifiche definite dure qui è semplicemente il fatto che abbiamo competenze e metodi che vengono dalla fisica dai sistemi complessi dalla matematica dalla computer science è vero anche che è un sistema complesso dei AI stessa quindi per funzionare per delineare dei futuri sociali ragionevoli bisogna comprendere bene le opportunità che offre esplorarle al massimo ma essere anche consapevoli dei rischi che può che può implicare d'accordo molto spesso si parla nei sistemi ambivalenti come questi di un out out ma forse sono un po' tutte e due le cose che devono convivere come una specie di et et non dobbiamo portarci la paralisi ma forse cercare di accettare che in un sistema complesso forse anche l'incertezza e il rischio in una certa misura fanno parte del sistema complesso capirne le cause però appunto è cruciale come dicevamo prima e per finire faccio finisco con una citazione non di un esperto di machine learning ma di un comico che ha detto questa frase siccome è molto ansiogena ma anche in un certo senso allo stesso tempo rassicurante quindi anche questa ambivalente cioè se noi non cambiamo direzione andiamo esattamente dove stiamo andando finiremo dove stiamo andando questo a me genera un po' d'ansia sembra davvero che sia balistica poi se ci penso dico vabbè però io lo so che se sto facendo questo vado a finire lì quindi semplicemente se non vogliamo finire in rischi e in meno opportunità con intelligenza artificiale beh basta che cambiamo le cose come le stiamo facendo giusto tutto grazie dell'attenzione direi che di punti di riflessione ce ne sono fin troppi e ringrazio molto per per questa queste due presentazioni non solo non solo illuminanti ma appunto che ci pongono tanti tanti quesiti in particolare non c'è dubbio che negli ultimi tragici eventi che stiamo vivendo sentiamo spesso dire di di dati che sono stati verificati in un certo modo e quindi sicuramente c'è molta applicazione di ciò di cui avete parlato allora io direi che la parola innanzitutto è ai presenti e poi se ci sono domande di fuori anche risponderemo forza ragazzi non mi dite che da tutto ciò non vi è venuta una curiosità chi è che rompe il ghiaccio ah scusate sta proprio dietro al progetto problema di luce nell'occhio oltretutto prego allora una domanda per quanto riguarda il consumo di energia delle intelligenze artificiali al momento è più importante ampliare i sistemi di produzione dell'energia al momento intendo in questo decennio in questo periodo ampliare la produzione di energia o migliorare l'efficienza dei sistemi domanda generale siccome ne avete parlato entrambi provo a dire qualcosa io poi dunque la previsione fatta dal Global Institute McKinsey sul fatto che tra 20-30 anni metà dell'energia che riusciamo a produrre se la viene mangiata da EIAI è semplicemente insostenibile quindi non è che dobbiamo rincorrere questa questa corsa io credo che insomma i paesi industrializzati non abbiano dubbi nel rispondere quale delle due cose è importante dobbiamo cominciare a risparmiare nel consumo d'energia anche perché l'EIAI adesso consuma quelle EIAI che consuma molto è quella del marketing quindi in quel caso di sicuro le risorse e la ricchezza prodotta va solo in alcune tasche quindi non avrebbe molto senso che ne so fare centrali atomiche per sostenere il grande consumo d'energia delle EIAI di poche aziende non so Daniele se vuoi aggiungere qualcosa sì dunque l'esplosione del problema dell'intelligenza artificiale rossa la RED EIAI come viene chiamata cioè il fatto che debba andare come il più possibile dell'attività legata al mondo ICT verso il green quindi la green EIAI è nata da analisi che hanno mostrato molto chiaramente come c'è stato un cambio di passo col deep learning cioè l'idea di avere rete profonde che sono più efficaci quindi questi algoritmi più complessi ma che richiedono molti più dati il training è molto complicato e si usano degli interi data center per settimane per costruire un modello che sia appunto utilizzabile è la cosa che ha fatto cambiare il passo è stato stimato dal 2012 al 2018 mi pare gli anni non sono sicuro al 100% ma un arco di 5-6 anni che l'impronta alla carbon footprint legata agli algoritmi di deep learning si è cresciuto di un fattore 300.000 tanto per cioè sono più di 5 ordini di grandezza quindi è ovviamente imprescindibile allora cosa fare è molto complicato prima di tutto riutilizzare tutti i training già fatti quindi è possibile utilizzare modelli pretrainati laddove qualcosa viene fatto su grande data center questo viene messo a disposizione nelle comunità e poi da lì si fa un ulteriore training specifico che è molto più green quindi evita di ripartire da capo tutte le volte tutti a fare le stesse cose questa è chiaramente una cosa la cosa più grossa probabilmente almeno le due direzioni che mi sembra a grandi linee si possano delineare entrambe molto tecnologiche sono la prima cercare di ridurre il consumo proprio le watt da utilizzare quindi fare ricerca in modo tale che l'AI diventi ritorni un po' all'origine alla biologia abbia quasi un consumo confrontabile a quello del cervello ci sono dei tipi di reti neurali le spike neural network tutto l'ambito del neuromorphic computing che cercano di capire come ottenere dei risultati altamente sofisticati utilizzando pochissima energia questa è una possibilità un'altra direzione è sicuramente quella di introdurre l'energia l'energy efficiency cioè l'efficienza energetica come parametro al momento qualunque cosa leggiate in giro fino a qualche anno fa utilizzava delle metriche come l'accuratezza dei modelli le curve rock you see se siete un po' dentro queste logiche per dire quanto un modello è meglio di quell'altro non c'era la footprint energetica non c'era mai stata l'idea di avere dell'energy efficiency di questi modelli beh comincia a mettere sul piatto del bilancio complessivo quindi anche sull'impatto sociale il fatto che sì questa cosa porta dei vantaggi ma il prezzo non green che sto pagando è questo e quindi ne aumenta la consapevolezza poi c'è tutta una linea più algoritmica molto complicata in cui si cerca in vari modi di capire come sviluppare algoritmi che siano di per sé meno energy hungry cioè hanno bisogno loro stessi come algoritmi di avere un training un po' più leggero quindi questo minima un po' non è che nessuna di queste sia la soluzione ma una combinazione di queste è un inizio diciamo per costruirne una ecco volevo aggiungere magari qualcosa che ritengo importante durante la rivoluzione industriale la questione ecologica era completamente ignorata Londra in particolare annegavano di inquinamento per per dir per dirne per dirne una ora quello che forse un po' abbiamo imparato da quell'esperienza è che quando arriva una nuova tecnologia che cambia il volto della società è bene cominciare a pensare subito alle questioni ecologiche allora ecologia di AI vuol dire tante cose attenzione vuole anche dire evitare i bias per esempio evitare le applicazioni di AI che poi ci si ritorcono contro Daniele ne ha fatte ha fatto un bel set di esempi ma per dirne una tutti quei sistemi che per esempio sembrano essere sembrano essere utilizzati in Cina di videocamere che scannerizzano tutti i passanti è come avere il braccialetto elettronico anche senza essere condannati cioè il partito la sa sempre dove ti trovi è come se il tuo localizzatore satellitare mandasse sempre informazioni al governo di dove ti trovi è chiaro che questo riflettere su come evitare questi problemi fa parte dell'ecologia dell'AI prima che insomma sia troppo tardi poi riguarda la questione energetica ci sono due anni di problemi e di nuovo mi rifaccio a questo parallelo con la rivoluzione industriale un conto era ottimizzare il rendimento del singolo motore che è stato importantissimo e quella è una questione termodinamica di prim'ordine un altro conto è ottimizzare il consumo di energia a livello di sistema cioè se hai migliaia centinaia di migliaia di motori quello è un problema diverso d'accordo? potresti avere dei motori che hanno un rendimento eccellente ma utilizzarli male a livello di sistema d'accordo? quindi l'ottimizzazione energetica non è un fatto non è solo locale sia per il motore che per AI è anche un fatto globale quindi grandi centri di calcolo possono essere una buona soluzione invece che tante azioni ripetute da tanti computer anche ottimizzati in locale sapete da fisici sapete la differenza tra ottimizzazione locale e ottimizzazione globale quindi tutti questi fattori contano e sono presi molto molto seriamente la mia è una considerazione forse più che una domanda che mi è sorta mentre vedevamo le immagini degli aschi e dei lupi ed effettivamente mi sono chiesto io com'è che distingo il lupo dal cane o l'uomo all'interno della cucina e non non sono riuscito a darmi una risposta subito quindi forse una provocazione addirittura chiedevo possibile che uno dei problemi di base dell'intelligenza artificiale sia quella che non abbiamo ancora ben compreso come la mente umana funziona e di conseguenza stiamo rincorrendo qualcosa che ancora è un po' troppo lontano beh è una considerazione molto sul punto direi perché in realtà a parte tutto quello che potremmo dire su come lo sviluppo delle neuroscienze che c'è stato che ci sarà ovviamente rientra all'interno della ricerca in molti di questi ambiti soprattutto appunto la comprensione dei meccanismi di base meccanismi fondazionali delle IAE è vero non lo sappiamo esattamente come distinguiamo il lupo dall'aschi ed è vero anche che non saprei dirti se l'immagine non era bellissima come forse per voi da lontano non era secolo line che cucinava era un uomo o una donna se non per il fatto che era calva quella persona quindi magari questo mi dà un indizio ma in altri casi potrei avere tranquillamente dei dubbi io stesso io non lo so se sono spiegabile quando faccio una scelta e se la devo spiegare all'istante non te la so spiegare esattamente il problema è che io sono un sistema complesso con cui convivo e nella mia realtà quotidiana sto infilando un sistema complesso non biologico con cui se lo infilo nella vita quotidiana ci devo convivere perché se io lo lascio applicato ai dati del CERN è una cosa ma se io lo metto in attività che sono nella vita quotidiana di tutti non specifiche di un settore di ricerca quindi ha un impatto sulla vita di tutti ma molto indiretto ma ce l'hanno invece così diretto beh io devo accettare al limite che non devo richiedere all'intelligenza artificiale dei livelli di spiegabilità che io non chiedo neanche a me stesso perché effettivamente forse non siamo arrivati e non vorremmo forse non potremo arrivare a spiegare tutto un esempio su questo c'è molto sull'automotive non so se avete presente le questioni legate a come cercare di capire chi è responsabile chi ha la colpa se in un'auto a guida autonoma c'è un incidente c'è un dibattito infinito che non provo neanche solo a iniziare però il tipico esempio che mi viene che si rallaccia alla tua giustissima domanda è che molto spesso questo viene formulato con il famoso trolley problem c'è questo vagone io sono allo scambio tra due binari e se va dritto uccide cinque persone se io aziono lo scambio va in un'altra direzione mi uccide una soltanto e cosa faccio? se non faccio niente ne muoiono cinque se io consciamente faccio qualcosa ne muoio uno ne muore una ma io non voglio uccidere nessuno c'è questa soluzione divertente di azionare lo scambio a metà del vagone così fa una specie di testa coda e non uccide nessuno ma a parte queste soluzioni buffe perché io devo scegliere tra quelle due? questa è una scelta chiusa in un sistema complesso non ci sono queste scelte quando siete in strada non potete non dovete scegliere se qualcuno sta per attraversare in strada se ammazzo quello vado sul marciapiede e ne ammazzo altri tre no? è una scelta aperta ho tante possibilità e non so come scelgo se io vedo un passaggio pedonale qualcuno che sta per attraversare e non sto andando come non dovrei troppo velocemente io mi fermo e lo faccio passare se guidate in Svizzera è normale potete anche essere a qualche metro dal passaggio pedonale ma le auto si fermano caso mai aveste voglia di attraversare infatti in Italia non è esattamente così è leggermente diverso fallo in Cina e poi trovi un altro livello ma lo sapete che riconoscono gli italiani perché ringraziano quando le macchine si fermano ai passaggi pedonali non sto scherzando perché siccome noi è sempre come va va allora quando poi qualcuno si ferma grazie ma io lo faccio di ringrazia grazie e quindi ci riconosco c'è una chiudo velocemente su questo c'è una facoltà che noi abbiamo che è quella di discernersi al caso anche di violarla a qualche regola a volte uno non si ferma perché non è sicuro che la persona attraversi e c'hai dietro in auto le bambine forse ti tamponano quindi vai dritto lo vedi al telefono questa persona su marciapiede sta parlando allora come fa la macchina a capirlo come ho fatto io a capirlo questo come faccio a spiegarla alla macchina come faccio a spiegarla a me stesso quanto capirò meglio quali sono questi meccanismi riuscirò a implementarli in fretta tanto più lo vedrò ad esempio al momento un'auto si ferma quando vede un pedone lo distingue da un'immagine su un cartello pubblicitario in modo tutt'altro che banale molto spesso i sensori non sono solo computer vision ma anche infrarossi perché una persona su un cartello stradale è fredda una persona viva è calda quindi combina informazioni l'inferenza quanto veloce è quanto si è disposta a pagare per un sistema di inferenza super veloce sulla tua auto che già una Tesla già costa molto quindi è un problema ovviamente molto complicato però hai ragione noi non dobbiamo chiedere forse di all'intelligenza artificiale di essere più spiegabile di quanto noi riusciamo a spiegare volevo aggiungere un suggerimento al giovane che è un suggerimento per una lettura allora e poi anche un commento generale c'è un libro autore Daniel Kahneman il titolo è Thinking Fast Thinking Slow allora Daniel Kahneman è tra i fondatori delle scienze cognitive moderne ha preso il premio Nobel in economia perché la sua prima scoperta come scienziato cognitivo è stata quella che si chiama teoria del prospetto e ha rivoluzionato proprio l'economia dal punto di vista delle scelte economiche si concentravano sulle scelte economiche allora in questo nuovo libro in cui lui ha iniziato questo autore americano ha iniziato a interagire fortemente lui fa scienze cognitive umane ma ha iniziato a interagire fortemente con gli scienziati di intelligenza artificiale perché è vero che non sappiamo come funziona il cervello è vero che non sappiamo come funziona l'intelligenza artificiale ma la buona notizia è che se le due quando le due comunità comunicano tra loro allora imparano qualcosa ognuna dall'altra d'accordo? alcuni meccanismi il fatto che il deep learning quelle poche cose che sappiamo sul deep learning hanno dato contributi alle scienze cognitive e viceversa scienze cognitive al deep learning in particolare questo thinking fast e thinking slow che cosa che cosa qual è il punto centrale di questo bellissimo libro anche se richiede un po' d'attenzione per essere letto non è un libro serale bisogna leggerlo insomma quando uno è proprio è proprio sveglio che abbiamo dei modi di ragionare noi come umani molto lenti vi faccio un esempio no? se vi chiediamo di sommare le frazioni voi non lo fate in un istante se vi do due frazioni da sommare con degli interi molto grandi voi conoscete un algoritmo vi mettete con carta e penna e lo risolvete perché vi è stata insegnata a scuola a differenza di una macchina in cui il programma è stato scritto da un umano che fa quell'operazione in un istante viceversa se vi chiedete ma come faccio a riconoscere l'esempio che facevi tu un lupo non lo so ma il cervello biologico è stato proprio sviluppato con dei task precisi che erano riconosci in fretta il lupo e se lo vedi taglia la corda più in fretta che puoi quindi insomma il perché non lo sappiamo ma è scritto da qualche parte nell'evoluzione biologica del cervello viceversa adesso che vogliamo insegnare a una macchina a riconoscere un lupo insomma è un qualcosa che è arrivato molto molto tardi la macchina una volta che ha bisogno attenzione di un insieme di immagini di lupi aschi enorme in confronto a quello dell'essere umano quindi noi siamo velocissimi perché il nostro cervello non sappiamo esattamente come ma nel corso dell'evoluzione ha imparato si è adattato a fare questi riconoscimenti con poche immagini con poche immagini e molto velocemente un qualcosa che adesso questo fatto delle scienze cognitive gli scienziati che si occupano di AI tentano di importare con metodi diciamo euristici nella tecnica AI quindi in qualche modo il cervello umano e cervello artificiale sono complementari in queste in queste loro capacità la cosa importante è che le due comunità imparano le une le une dalle altre quel libro è veramente da leggere grazie dunque sono le quattro e trentacinque io volevo sapere abbiamo possibilità di raccogliere domande da fuori o no sì e ce ne sono perché se non ce ne sono andiamo verso la conclusione ce n'è una e come facciamo è scritta microfono e parlare Renzo Orsi mi attiva l'audio ecco ah buonasera mi riferisco brevemente all'ultima presentazione quella del di Buonaccorsi cioè a proposito degli algoritmi mi sembra di poter dire che cioè in certi casi possiamo affermare che ci sia un vero pregiudizio dell'algoritmo nel senso che la frase la fase di apprendimento sulla base della quale viene costruito l'algoritmo incorpora in un qualche modo un pregiudizio presente nel comportamento umano che poi viene riprodotto nell'algoritmo faccio un esempio per esempio una azienda una grossa azienda che esamina il curriculum per delle domande di una posizione aperta diciamo in alcuni casi ho visto insomma che usano degli algoritmi che filtrono le domande e riducono il numero delle domande a un sotto insieme su cui poi si va a indagare più più dettagliatamente ebbene per esempio se è una società che opera nel campo ingegneristico sicuramente il curriculum delle femmine cioè del genere femminile sono discriminati rispetto a quelli maschili perché la fase di apprendimento ha esaminato diciamo delle posizioni in cui è molto più presente il genere maschio il genere uomo rispetto alla femmina e quindi diciamo questo si riproduce nell'algoritmo non so se è una diciamo una considerazione che che può avere qualche fondamento a me mi sembra di poterlo affermare questo è sicuramente un'osservazione molto interessante che il pregiudizio in questo caso sia nell'algoritmo però va un attimo come dire sviscerato brevemente l'idea che noi abbiamo un algoritmo e viene allenato sui dati l'algoritmo su questo è veramente abbastanza agnostico l'algoritmo può essere più o meno semplice stiamo parlando di modelli data driven quindi se l'algoritmo che applica l'azienda è degli if then else di qualche tipo ovviamente non è machine learning o deep learning quindi in quel caso ci sono delle regole applicate e basta se invece si prendono i dati e in base a quelli si costruiscono le regole ovviamente sono i dati che danno il pregiudizio quindi l'algoritmo di per sé è agnostico i dati che vengono messi lì dentro però potrebbero avere un bias l'algoritmo può essere più o meno complicato quindi se è molto semplice potrebbe essere in zona come si chiama di underfitting cioè non riesci a trovare quella buona funzione che mi mappa l'input all'output che vorrei se lo faccio troppo complicato potrebbe andare in overfitting cioè lo posso fare ma poi non generalizzo a nuovi dati su cui non ho fatto l'allenamento questi sono i problemi che posso avere in pratica nell'allenamento dell'algoritmo ma il pregiudizio se c'è è davvero nei dati l'esempio che lei ha fatto per esempio è molto interessante questo dell'assunzione perché fu fatto anche fu sollevato a un certo punto che nell'assegnazione con metodi totalmente data driven di premialità all'interno di alcune aziende veniva valutato il tempo di presenza in azienda e questo veniva fatto come genere in modo assolutamente uguale tra gli uomini e le donne naturalmente beh i premi sono stati dati tipicamente a parità naturalmente attraverso i generi di prestazioni sono stati dati un po' di più agli uomini perché beh indagando quello non era tanto nemmeno il fatto di classi unbalanced tra il numero di uomini e il numero di donne ma era il fatto che per esempio non erano state considerate le maternità quindi l'idea che una donna con alte prestazioni sia stata assente per un certo numero di mesi l'algoritmo non poteva sapere quella durata dell'assenza che fosse associata a un genere semplicemente ha visto un'assenza più lunga quindi perché dare un premio di produttività beh è chiaro che questo non è tanto l'algoritmo che ha un bias in sé tecnicamente il dato non era curato abbastanza bene per evitare che ci fossero dei bias in ingresso nel sistema di machine learning questi quello che di solito viene chiamato il garbage in garbage out in machine learning cioè se all'interno di una scatola si infila della spazzatura non è che il modello che esce fuori magicamente è fantastico e l'algoritmo magari è lo stesso se ci infilo dei dati che invece sono di qualità curati e privi di bias il risultato dell'applicazione dello stesso algoritmo diventa non pregiudiziale quindi non è l'algoritmo in realtà che opera un pregiudizio lui fa il suo lavoro diciamo ma su modelli data driven ahimè l'attenzione più che sull'algoritmo va al dato so che non è intuitivo in un certo senso mi rendo conto che l'idea di avere algoritmi intelligenti fa pensare che allora ci sono anche algoritmi cattivi ma in realtà per i modelli di machine learning i dati sono molto più importanti in un certo senso degli algoritmi grazie allora io credo data l'ora che dobbiamo fermarci anche se il tema è così interessante che probabilmente avrei voluto continuare volevo dire un paio di cose ah no una cosa mi permetto di dirla visto che sono cea che io ho usato negli anni 90 un neural network che distingueva nel calorimetro sciami elettromagnetici da sciami adronici però all'epoca trovammo che l'analisi convenzionale funzionava meglio non so perché va bene detto ciò innanzitutto vorrei precisare che le conferenze che si svolgono in Accademia vanno a finire sul canale YouTube dell'Accademia non in tempo reale ma insomma per cui lo dico così magari lo dite ai vostri colleghi lo dico ai ragazzi se qualcuno appunto non poteva oggi seguire nemmeno da remoto per via di lezioni con comitanti o perché doveva prendere un treno andare a casa whatever una lezione questa questa io l'ho chiamata seminario a due voci può essere potrà presto essere riascoltato sul canale YouTube dell'Accademia e penso che sia una cosa utile forse anche per invogliare a venire ai prossimi appuntamenti segnalatelo agli amici e così poi la prossima volta sarete ancora più numerosi l'altra cosa prima di ringraziare spero che abbiate potuto divertirvi a guardare gli affreschi cinquecenteschi del nostro pellegrino Tibaldi che chiaramente sono influenzati da tutti tutti gli artisti romani perché perché qui era terra del papa quindi c'era uno stretto connubio tra quello che succedeva a Roma e quello che poi veniva fatto anche in altri posti e e poi adesso arrivo al al momento chiave cioè vorrei veramente ringraziare questi nostri due illustri relatori perché veramente sono stati di un interesse e di una chiarezza eh a mio parere ehm notevoli quindi grazie per l'impegno grazie per il tempo che ci avete dedicato e eh a presto grazie